Io desideravo sapere G perché faccio i giri nella creazione, faccio i giri nella redenzione ma i giri nella santificazione in pratica non li faccio, non so farli bene quindi potessi darmi un aiutino in maniera da riuscire a fare anche nella santificazione Il giudice, Luisa e tutto ciò che farà lo Spirito Santo è santificarmi e quindi anche riparare i sacramenti però secondo me è anche la stessa vita in un giro nella santificazione Già dice vieni a respirare il mio respiro, a camminare i miei passi E' già lo Spirito Santo che opera il terzo filo anche nella vita comunale oltre a ciò che fa lo Spirito Santo sempre opera nei sacramenti, opera nella santificazione delle armi però anche nei gesti Quando tu hai detto vieni a pensare nel mio pensiero E poi c'era già un'opera dello Spirito Santo di voler vivere completamente realmente come faceva Luisa Penso Fano la Spirito Un atto divino Un atto divino anche direi adesso vieni a ascoltare e non ascoltare E' già un atto certificato Perché non sei più tu a farlo ma è Gesù in Certo Tutto quello che Gesù sa in noi allora Si, oltre che lui vuole che si riparano anche le opere buone anche sante però fatte con la santità umana rifatte con quelle che lui ha fatto nel terzo filo Quindi ciò che poi ha fatto Luisa E poi è Luisa che possa portare questi atti al trono dell'eterno Quindi rifare tutti gli atti Rifare anche gli atti delle nostre e delle creature Non sapevo di come faccio Ma anche in tutte le parole di Luisa basta leggere i libri Anche quelle sono ispirazioni che ti dà lo Spirito Santo E' vero che ogni volta che tu le leggi scopri delle cose nuove Anche se le leggi mille volte No, a quella parola io non ci avevo pensato E' questo Quindi queste anche sono ispirazioni dell'esterno Santo Ma poi è infinito secondo me Puoi sempre pensare in cose diverse Infatti io penso adesso a Luisa Che lei infinitamente contemplerà nella divontana Ma è sta infinita per tutti Ma quello che non è leggero è un modo che lei ha scritto per darci un rettivo Sì, sono un goccio Però poi sì, sono un goccio Lui vuole avere le copie Entrare nell'atto unico Sì, è un atto santificante Perché Gesù del Dio è niente Ma con lui usare tutto I Gesù con Gesù Maria Santissima e Luisa Ma non sappiamo se con Luisa Io per lo meno faccio questa richieda Nel senso di dire Faccio miei anche gli atti Di tutti i figli che vivono Passati, presenti e futuri Io li abbraccio tutti Per cui offro al padre A nome di tutti Quegli atti umani Gli atti di cattivi Che stanno facendo adesso in questo momento Come per esempio In questo momento è una cosa importante Offrire il martirio di quei bambini Che muoiono nell'acqua Proprio Perché tutto quello che stanno facendo A questi bambini Lo stanno veramente passagrando Questo Gesù bambino Questa è Mi viene in mente di pensare Alla Alla strage dell'innocente Ah, sì Ecco Questi Sono altri secondo me Che fa Dio proprio Perché altrimenti Ci dovrebbe proprio distruggere Ah, è fatto Quindi va a prendere proprio Dio E' interessante sentire ovviamente Tutto Anzi, grazie 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 a te No, grazie Grazie allo Spirito Santo Perché stiamo girando Nello Spirito Santo Tra l'altro questa domanda Che non è la domanda sua E' diciamo lo Spirito Che ci chiama Ci chiama a girare Nei suoi atti Allora E' una domanda legittima Nel senso che E' chiaro Ogni volta che noi Entriamo nella divina volontà Ci dobbiamo entrare Entrando nell'umanità Di Gesù Allora Perché è Gesù Che ci rivela il Padre Però noi entriamo Nell'umanità di Gesù Con lo Spirito Santo Perché senza lo Spirito Santo Noi non possiamo entrare Nell'umanità di Gesù Allora il nostro atto di fusione Nella divina volontà C'è già il Padre Il Figlio e lo Spirito Santo Poi giustamente Non negli scritti C'è tanto Tanto Tante pagine Che ci parlano Del girare Nella divina volontà Negli atti della creazione Negli atti della redenzione Un po' meno Giustamente Si parla in modo specifico Apparentemente Degli atti della santificazione Anche se nel volume 17 Luisa gira Nella creazione Mette il suo Tiamo La sua compagnia La sua riparazione In tutti gli atti Però lo può fare Sempre perché lo Spirito Lo fa in lei Quindi questo È già girare Nella santificazione Poi entra Negli atti della redenzione E dice Il mio giro è completo E Gesù dice No figlia mia Ti sei dimenticata Devi continuare Con gli atti Della santificazione Cioè Nell'ordine Entra nell'ordine Della grazia Allora Questo apre Il campo aperto Il campo aperto Di tutti gli atti Della santificazione Allora Giustamente Tutto quello che Abbiamo sentito E detto Finora Da una parte Nella divina volontà Ci sono come due piani No Allora La divina volontà Viene a fare Tutto quello che facciamo In noi Allora La divina volontà Lo fa in noi E lo spirito santo Santifica Tutto quello che facciamo E quindi La divina volontà Dice Io mi abbasso A fare tutto quello Che vuoi fare tu E lo faccio in te Allo stesso tempo Però Alzati E vieni tu a fare Tutto quello che faccio Allora In questo Possiamo dire che Gli atti Della santificazione Hanno due Due piani Due elementi Perché Giustamente L'era del fiat Voluntà tua È l'era Della santificazione Allora Nella misura in cui Noi chiamiamo Gesù A fare tutto In noi Chi è che santifica Chi è che divinizza Il nostro atto E lo spirito santo Allora Questo ci dice Che Ogni atto Che noi facciamo Nella divina volontà È girare Nell'atto Della santificazione Dello spirito Perché è lo spirito Che attua In noi E in tutti Questa santificazione Allora Per questo È un campo aperto Quasi non se ne parla tanto Perché Precisamente Il leggere i volumi L'applicare i volumi Il pregare Nella divina volontà Il fonderci Nella divina volontà È lo spirito Che lo fa Perché Lui Gesù ha detto Io devo andare Se no Il paraclito Non può venire Il paraclito Non può venire Sì Allora Stiamo Stiamo Diciamo Ancora Entrando Stiamo Nel piano Della divina volontà Che viene A santificare Tutti i nostri atti Quest'opera Chi la fa? La fa lo spirito La fa lo spirito Adesso però Per dare Legittimità Alla tua domanda Perché giustamente Noi abbiamo La necessità Dell'ordine Della struttura Io per esempio Avendo visto una volta Una novena Allo spirito santo Altre cose Però Ci si può immaginare Come Una serie di atti Dello spirito Dalla storia Da ad intra Dall'eternità Fino a tutto il tempo Qualcosa Ci possa dare Una struttura Così come noi Andiamo Negli atti Della creazione Seguendo La progressione Della genesi Dai cieli Alle sfere Alla luna Al sole Alla terra Al vento All'acqua All'ernio vegetale Regno animale L'uomo E così via Poi entriamo Negli atti Dell'antico testamento Le ore della notte Prima della redenzione Poi entriamo Nella redenzione Con l'immacolato concepimento Maria nel tempio L'incarnazione La vita nascosta La vita pubblica La morte La risurrezione L'ascensione Di Gesù La sua vita eucaristica Atti della redenzione E gli atti Della santificazione Siccome sono Per Non li vediamo Non li tocchiamo È più difficile per noi Crearci questo giro Questa progressione Però Un suggerimento Ci può essere Per esempio Iniziamo dal primo atto Dello spirito santo Il primo atto Dello spirito santo Insieme con il padre E con il figlio È l'atto ad intra Allora io voglio iniziare Il mio giro Diciamo che Ho concluso il mio giro Nella redenzione L'assunzione di Maria Santissima Assunzione di Maria Santissima La chiesa Ecco la chiesa Che deve camminare Lo spirito E dice Spirito santo Giriamo E dice Figlia mia Lo sai dove Il mio primo atto eterno Dice lo spirito santo Il mio spirito santo Dice Il mio primo atto eterno Sta Nel mio procedere Dal padre E dal figlio E quindi Io voglio iniziare Il numero uno Io voglio creare Una mia piccola scaletta Poi ognuno si crea La sua Mia piccola scaletta No, di giro Gli atti della santificazione È l'atto ad intra Dove il padre Dove il padre genera Il figlio Il figlio ama il padre E l'amore dei due È la persona Dello spirito santo E procede E quindi Il mio primo atto Nella santificazione Non può che iniziare Dall'atto ad intra Allora Dobbiamo fare questo sforzo No Noi entriamo Nell'atto unico Che contiene tutto Però in questo momento Stiamo facendo lo sforzo Di Dentro l'atto unico Gesù ha scritto 36 volumi Proprio per sminuzzarci Do un pochino Questo atto unico Per darci una sequenza Tra la nostra mente Che lavora nel tempo E nello spazio Allora Proprio come Come se usassimo Una catena del rosario Anche se Il centro della divina volontà Sta in questo centro E' l'umanità di Gesù Allora però In questo momento Quello che stiamo cercando di fare E' seguire E' seguire dei passettini Che sono l'atto unico Però siccome il mio cervello Non ci arriva Li devo sminuzzare Questo è quello Che fa Gesù con noi Allora L'atto ad intra Dove lo Spirito Santo procede Io vedo Entro in loro E vedo che cosa Come abbiamo letto anche Nella Nelle preghiere iniziali Il vero regno Dell'ordine della pace Dove il modello Della vera adorazione Si trova Dentro la Santissima Trinità E dove il padre Adora se stesso nel figlio Il figlio Vede l'immagine di se stesso Nel padre E questo scambio Tra i due E' la persona Dello Spirito Santo E' il procedere Allora è proprio perché Loro si fondono In la natura Del vero amore E' proprio quello Di dare la vita Per l'amato Di fondersi nell'amato Perché il nostro Dio E' vero amore Deve essere per forza Deve essere un Dio Uno e Trino Altrimenti sarebbe Un Dio Una persona Perché si fondono Nell'uno E poi per dare Predominanza Alla diversità Alla varietà Della loro qualità Si distinguono Si distinguono nei tre E' la risurrezione E' la risurrezione di Gesù Così come Il venerdì santo Ci dà la risurrezione Allo stesso modo L'avvento Ci dà la nascita Questo l'avvento E' il grande sconosciuto Cominciamo a fare Le feste di Natale Ancora quando Gesù Sta agonizzando Nel ventre di Maria Ci perdiamo Ci perdiamo Una grande cosa Ci perdiamo La morte Per poter rinascere Ci perdiamo La fusione Per poter Per avere La distinzione Tutto sta nel vero Fusione Morte Per poi Rinascere Chiaro Nella Santissima Trinità Non c'è la sofferenza E' vi ho detto Però Per il peccato Allora Questa Questa espressione Del vero amore Deve necessariamente Passare per la Morte Che è la morte Di sé Per rivivere Nell'altro E quindi Gesù muore Per farci concepire In Lui Come Lui ha posto Il suo concepimento Nel concepimento Gesù E Gesù Ha potuto farlo Perché Perché Lui Ha preso Il suo concepimento In Lui Non soltanto Il suo concepimento Ma tutte le pene Di accessi Da morte Per poi nascere Lo stesso pure Nel venerdì santo Per poter Qui stiamo soltanto Al primo passetto Nel giro della Santificazione L'atto ad intra Ci potremmo fermare Non so quanto tema L'atto ad intra Però Possiamo vedere Che la Santissima Trinità In quest'atto ad intra Vuole poi formare L'immagine di se stessa Sulla terra L'immagine di se stessa Sulla terra È La paternità divina Quindi il padre Con la sua paternità divina Depositata In una creatura E questa si chiama Maternità divina In Maria Santissima In una creatura Chiamata maternità divina Quindi il padre Quindi il padre In terra La sua paternità Sta nella maternità Di lui Lui quasi ci ama Con amore materno Che è amore nascosto Dietro Maria Il verbo Il verbo Che si fa carne E quindi in Gesù Lo Spirito Santo Che procede Dai due È in Luisa Come capostipite È nella procedenza Della generazione Dei figli Della divina volontà Quindi si vede Che lo Spirito Santo In terra È la procedenza Dei figli Del divino volere Quindi per necessità Il giro Negli atti Della santificazione Sta Negli atti Fatti Della divina volontà In terra Questo stesso È il giro Nella santificazione Per questo Gesù non lo sminuzza tanto Però lo fa In un certo senso Allora Il primo atto Per me Mi voglio fare Questa scaletta Giro nella santificazione Atto ad intra Spirito Santo Voglio stare con te Ti adoro Voglio procedere con te Dal padre e dal figlio E in questo modo Come sucun procedi Dal padre e dal figlio La mia santificazione Nella divina volontà Grazie al capostipite Luisa Che ha il primato Di su tutti gli atti miei Procede Da Gesù e da Maria In cui ha depositato in Maria La paternità divina È l'incarnazione Per formare la trinità In terra Per me È il primo atto Nella santificazione Mamma Prima che continui Quindi possiamo prendere In pratica Il primo atto Sì Sì Io Anche i futuri Perché mi pare Che a un certo punto Che ci sia scritto Mi pare Io l'ho pure trascritto Ma non ricordo Se riferisco bene Che Gesù dice Nella mia volontà C'è il vuoto Dell'atto Della creatura Che faccio Nella mia volontà E riempire questo vuoto Significa far scendere Il regno Completo Divino Io voglio fare Una domanda a Marina Scusa Sì Devo finire per il giro Ah sì Per il giro Sì Sì Vabbè Non se c'è il giro Sì Sì Cioè Volevo sapere Quando si inizia appunto Con l'atto all'intra Io probabilmente Faccio la scaletta Così come viene La creazione La retenzione La santificazione Che poi Diventa santificante Qualsiasi altro E' un atto santificante Quando io giro E ringrazio Adoro Benedico Prendo questo atto Lo ridò Addio Anche nel fiat creante Perché poi E' un atto Di Dio Un atto Comunque Santo E io Lo faccio Lui Lo ringrazio Adoro Non esiste Quei grazie Che nessuno dice Benedico E si adoro Quindi anche Quello diventa Poi un atto Santificante Un atto Dello Spirito Sempre Spirito Esatto Per questo Allora per questo Sto dicendo Che Gesù Non Non dà A Luisa Questa Questa istruzione Minuta Su gire Nella santificazione Perché il vivere Nella divina volontà E' la santificazione Però siccome ho preso La tua domanda Sul serio Stiamo cercando Stiamo cercando di fare Un giro Una proposta Di giro Che Allora tutto quello Che facciamo Nella divina volontà E' santificazione E' il giro Nella santificazione Però Per prendere la tua domanda L'atto Prima volta Possiamo dire Nel principio Adamo Adamo Sì Assolutamente Negli atti di Adamo Innocente Possiamo Infatti Ampliarlo Come vogliamo Per arrivare Agli atti Dello spirito santo Fare gli atti Dello spirito santo Insieme allo spirito santo L'immacolato concepimento Di maria Mare di amore Il terzo atto In cui Stiamo insieme Allo spirito Dove In una novena Del santo natale Immaginavo Il padre Che mandava Il figlio Sulla terra Il figlio E' ciego Mi teme Che obbedì Prontamente La volontà del padre Lo spirito santo Che Consente Consente L'incarnazione L'incarnazione Spirito santo Sono con te Ad intra Prima che tutto è Prima Nella mente Come tu procedi Dal padre Al figlio E con il padre E il figlio Siete uno Fammi essere uno Insieme con voi Fammi essere uno Con tutti Dammi l'unità Con tutti Come voi siete uno Padre ti prego Affinché loro Siano uno Come noi Siamo uno Chi ci dà l'unità E' lo spirito santo Per questo noi entriamo Nell'immacolato In tutta la redenzione Ovviamente Nel momento in cui entriamo Seguiamo la redenzione Seguiamo anche lo spirito Noi sappiamo Perché il padre e lo spirito Sono sempre concorrono con Gesù Però Allo spirito E al padre Piace dire Sì E' chiaro che se entriamo E' chiaro che se entriamo Nell'atto unico Ci confondiamo Però siccome Siccome abbiamo bisogno Di vedere Il ruolo predominante Allora nella creazione Noi con Gesù Ci mettiamo con Gesù Ad adorare il padre La maestà divina Come mette fuori La macchina della creazione E' chiaro che il figlio E lo spirito Sono insieme Questo lo facciamo con loro Nella redenzione Lo padre manda Lo spirito consente Nella incarnazione Però Noi ci mettiamo Insieme al padre Allo spirito E ci uniamo Al verbo incarnato A seguire tutti i passi E tutti gli atti Che lui fa Nella redenzione E allora adesso Allora adesso Dopo l'ascensione di Gesù Dopo l'ascensione di Gesù Inizia La santificazione Nel senso che Dopo che lui ascende Dice adesso Chi è il protagonista Chiaro che loro Sono inseparabili E' chiaro che Quando si fa Qualsiasi atto Che facciamo Nella divina volontà Noi non possiamo Escluire lo spirito E il padre No è impossibile Però per noi Per parlarne Per farne Abbiamo bisogno Di un certo ordine Abbiamo bisogno Quasi di sminuzzare Di separare Apparentemente Come i bambini Come i bambini Questo dono Di diversi secoli fa Di Maria Santissima Non è altro che Un aiuto per noi Di fare atti Seguenziali Nello spazio e nel tempo Altrimenti Per girare Nella divina volontà Allora Continuando il giro Nello spirito santo Per quanto infantile Oppure semplicistico Possa essere Allora Attua d'intra Fondamentale Immacolato concepimento Perché Incarnazione Lo spirito Quando Lo spirito sta lì Che fa tutto Quello che fa Allora Gesù ha fatto tutto Per poter Incarnare in me Ciò che ha fatto Gesù Lo posso fare Tramite Soltanto tramite Lo spirito E di che cosa Ho bisogno Dello spirito In me Allora Qual è il quarto atto La pentecoste La pentecoste Perché Allora Dice Nostra madre Come facciamo Noi a diventare Fili del divinvolere Noi abbiamo bisogno Questo spirito E io farò scendere Lo spirito santo In te Perché consumi In te Tutto ciò Che è volontà umana E con il suo fuoco Ardente Ti dia Il carattere Di vero apostolo Ti tolga I pannolini Del baby E ti dia Il carattere La nuova scienza Il nuovo coraggio Per vivere nella divina volontà E noi chiediamo Di ricevere lo spirito santo Non solo Come l'hanno ricevuto Gli apostoli Ma nella divina volontà Come l'ha ricevuto Maria Santissima Come l'ha ricevuto La Maria Santissima Allora Ad intra Spirito santo Tu sei la procedenza Dal padre e dal figlio Così come tu procedi Dal padre e dal figlio Fammi procedere Con Luisa Capostipite Da Gesù e da Maria Come procedenza Generazione dei figli Della divina volontà E per rinascere In questa divina volontà L'inizio Del compimento Della promessa Di una redenzione piena Che è il regno Della divina volontà Inizia con l'immacolato Concepimento E quindi con lei Con Maria Santissima Tu riversi Sulla creatura Mari di amore E allora Mi metto insieme Con te E poi Nella incarnazione Perché tu Insieme a Del padre Concorri Nella incarnazione Del verbo Mi metto insieme Con te E poi Quando Gesù Seguo tutti quanti Gli atti Della redenzione E dice Adesso Mi metto Nell'atto Della Pentecoste Spirito Santo Ti voglio ricevere Ho finito il mio giro Nella redenzione Ho riniziato il mio giro Nella santificazione Sembra che mi sto Sovrapponendo Perché sto tornando indietro La dintra Ma è necessario Perché lo Spirito Santo Lo voglio prendere Ab eterno Allora Io L'atto Dell'immacolato Concepimento Lo posso fare Seguendo il mio giro Nella redenzione Perché è l'alba Della redenzione Però lo posso fare Anche come secondo atto Nel mio giro Nella santificazione Perché lo prendo Come mari di amore Dello Spirito Santo In me E' chiaro Dobbiamo separare Un pochino le cose Per poterle ricevere Un passetto alla volta In noi L'incarnazione La Pentecoste La Pentecoste Ovviamente Pentecoste Che vuol dire per noi Vuol dire Doni dello Spirito Santo Lo so Qui ci vorrebbe Non lo so Per me Continuare il giro Della santificazione Chissà Allora Entro Spirito Santo Nel dono Della conoscenza Fammi entrare Fammi entrare Nella conoscenza Per poter Conoscere In me La relazione Tra il creatore Il vero Compimento Del dono Della conoscenza La conoscenza E' l'usare Propriamente Della creazione Di tutto E quindi Chi come Luisa Ha ricevuto La pienezza Del dono Della conoscenza Nessuno Nessun San Francesco Vedeva Questa Diciamo Relazione Di figliolanza Di sorella Fratello Con le cose Creati Vedeva La giustezza Del proposito Di ogni cosa Creata Ma poteva San Francesco Entrare Nell'atto Della creazione Del mantenimento Delle cose Un po' come Questo Spirito Santo Non ti domandiamo Più i sette doni Ma domandiamo La tua presenza E' il compimento Dei sette doni Però siccome stiamo Facendo il giro Noi li vogliamo Sminuzzare Questi sette doni Per il fondo E' la tua domanda No? Giusto Però è bello E' bello pensare Perché più Se li sminuzzo I sette doni I posso Viaggire Gesù Dico Spirito Santo In me Vieni tu Dammi Il dono Della conoscenza Sii tu Incarne in me La conoscenza Dammi tu La conoscenza Piena Del verbo incarnato Che è Gesù Delle verità Il dono Della sapienza Che è quello Di utilizzare Nella mia vita La conoscenza Il dono Dell'intendimento Dell'intendimento E' quello Di muovermi Nelle circostanze Della vita Secondo L'ordine Dello spirito Il dono Della sapienza Il dono Del consiglio Il dono Della pietà Della pietà Della carità Il dono Del santo Timore di Dio Il cui primo frutto E' la sapienza Il dono Del coraggio Del valore Ho bisogno Perché altrimenti Che faccio Ho paura Qualsiasi cosa Mi impaurisce Il castigo Mi impaurisce Il futuro Mi impaurisce La mia debolezza Mi impaurisce Le mie cadute Mi impauriscono Le critiche Mi impauriscono Allora Gesù Spirito Santo Spirito Santo Ho bisogno Vieni tu In me A dare la vita La pienezza Di questi doni Pentecoste Pienezza dei doni Dello Spirito Santo E allora La differenza sta Che facendo questa cosa qui Noi stiamo entrando Negli atti Dello Spirito Santo Non stiamo Diciamo Chiedendo grazia O esprimendo Pia intenzioni Abbiamo bisogno Di sminuzzarlo Proprio per prenderci Questi atti E farli Nostra vita Allora Lo sminuzzarli Ci serve Proprio come Io non posso Mangiarmi una pagnotta Intera Ma ho bisogno Di farla Boccone per boccone Meglio così La devo masticare Perché se ingoio Non mi da niente Non la riesco Neanche ad assimilare Allora Questo Per rispondere Non ho la tua domanda La redenzione Già la so Penso L'esecuzione La vita di Gesù Vita nascosta Vita pubblica Che poi anche Lì posso saltare Dei punti Posso andare Più veloce Posso andare Meno veloce La sentizione Lo stesso modo Lo possiamo fare Quinto atto Il ministero Del sacerdozio Perché Dopo Sono I sacerdozioni Una volta che hanno ricevuto Lo Spirito Santo Gli apostoli E quindi Anche tutti gli atti Degli apostoli Come atti di santificazione Ero lo Spirito Santo Il ministero del sacerdozio Ovviamente Come lui stava dicendo Il ministero del sacerdozio Cosa vuol dire anche? Sacramenti Sai che giro Sta diventando lungo Comincio a dovermelo scrivere Sacramenti Posso entrare in uno Questo c'è un passo Un Pare in volume 16 C'è una Non abbiamo neanche Il bisogno di immaginarcelo Basta entrare negli scritti Luisa Dove Gesù stesso Ci porta Negli atti della santificazione In ogni sacramento Ci porta dentro il battesimo Dove ci chiama a riparare Per quante volte Noi il battezzato Noi poi si rivolta Contro Il confermato Il confermato Il battezzante Il battezzante Eccetera La comunione L'opera del Spirito Santo C'è dappertutto C'è dappertutto Però C'è dappertutto Però in questo momento Ci stiamo focalizzando Negli atti in cui Lo Spirito Santo Secondo l'ordine della Santissima Trinità Fa il protagonista Questo è l'esercizio Che stiamo facendo Lo Spirito Santo Lo troviamo dovunque Lo troviamo Però per darci un'idea Del giro Nella santificazione Ci stiamo facendo Un'idea Una scaletta Dove lo Spirito Santo Che concorre sempre Con il padre Con il figlio Fa l'attore principale E gli altri due Quasi si nascondono Dietro di lui Perché così gli piace Allora Mi pare che Durante la Pentecosta Il padre e il figlio Uh come si nascondono Dietro allo Spirito No qua è lui Mamma mia Spirito È lui Guarda che fuoco Altro che è Colombina Che fuoco Ecco E' chiaro Che negli atti D'Antico Testamento C'è anche lui Però formalmente Il regno della grazia Non era ancora venuto Allora Attia d'intra Immacolato concepimento Incarnazione Pentecoste Doni dello Spirito Santo Ministero sacerdotale Sacramenti Uno per uno Non è che poi gli scadano Sacramenti Dopo i sacramenti Questo L'opera dello Spirito Santo Dalla Chiesa nascente Dice nostra madre santissima Io posso dire Che la Chiesa nascente La tenevo Della mia braccia Come una Io come una barchetta Facevo delle mie braccia E questa Chiesa nascente Allora Quindi Gli atti Dello Spirito Santo Negli atti degli apostoli Negli atti degli apostoli Allora Spirito Santo Ti adoro Ti adoro E insieme con te Sto insieme con te In tutti gli atti degli apostoli In Pietro In Paolo In tutti Quando si litigano Quando cominciano a capire le cose Dice ma la circoncisione Non la circoncisione Ma io appartengo a quello Appartengo a quell'altro E' lo Spirito che inizia Allora E' lo Spirito che comincia A macinare A macinare A macinare Per Stabilire Pian piano Il Settimo anno Magisterio Della Santa Chiesa Magistero Della Santa Chiesa Della Santa Chiesa Allora Dopo la Pentecoste Quindi La Pentecoste I doni dello Spirito Santo Il Ministero Sacerdotale I Sacramenti Lo Spirito Santo Si ferma No, continua Da duemila anni Dal primo Papa Fino a Papa Francesco Ti adoriamo Ti seguiamo Spirito Santo Tutte le volte Che tu hai ricevuto Un rifiuto Nel mio cuore Nel cuore Dei tuoi ministri Nel cuore Della Santa Chiesa Ti chiediamo perdono E ti invochiamo Spirito Santo Non ti vogliamo chiudere Le porte in faccia Ti adoriamo Ti ringraziamo Ti riceviamo In tutta la tua opera Che guida La Santa Chiesa La Santa Chiesa Sembra una nave In tempesta Eppure tu Non l'hai mai abbandonata E non l'abbandonerai mai Anche per opere Di tutti i santi Quindi la Santa Chiesa Eh, allora Ottavo A Perfetto Allora Già Ci vengono le idee Il dono Gli atti Dello Spirito Santo Nel Magistero Della Santa Chiesa Quindi Nell'infallibilità Del Santo Padre Per le cose Di fede E di morale In tutti i dogmi In tutti i documenti Ufficiali della Chiesa In tutti gli insegnamenti Ufficiali della Chiesa In tutto quello Che lo Spirito Santo Fa nella vita Della Chiesa Ecco Quindi Non soltanto Il Magistero Della Santa Chiesa Quindi nella gerarchia E nella persona Del Santo Padre E nella gerarchia Della Chiesa Ma anche Giustamente Nell'opera Dello Spirito Santo Della santificazione Tramite La santificazione Delle virtù Tramite tutti I santi Come ci dice Tutti 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 Chi è? Lo Spirito Santo Allora Allora Che prevale Con la sua verità E' fondamentale Bellissimo E allora In tutti i santi E adesso Adesso Come atto Ultimo Che mai finisce Infinito Infinito E' la porta aperta E' la santa porta E' la porta Nel regno Della divina volontà E' La nuova Gerusalemme Che è il regno Della divina volontà Questa è la grande Porta aperta Degli atti Sì contati Ab eterno Ma ancora Che si devono Attualizzare Che divina pure il sole Che fumina la Gerusalemme Sì Sì E quindi La Gerusalemme Che è il regno Della divina volontà Che scende sulla terra Dove I caratteri I muri Della Gerusalemme Ci hanno stampato Con caratteri Che cosa Le verità Le verità E allora E quindi Concludiamo Questo atto Questo giro Infinito Non soltanto Nel magistero Della chiesa In tutti i dogmi Gli insegnamenti Nella apostasi Tutto quello che fa Lo spirito sento Per mantenere la chiesa Immaginiamo I sogni Di San John Bosco Giovanni Bosco E tutto quello Che lui ha visto Della chiesa In tempesta Ma lo spirito santo Continua a guidarla La guida La indirizza Attraverso appunto I santi Che ci vengono Come modelli Ma vuole portarla Alla perfezione Per girare Negli atti Della santificazione Anche Ecco E quindi Per quanto Ce ne possano essere Infinite Una Giusto per rispondere Quello che faccio Allo stesso modo Allo stesso modo Lo spirito ci dice Lo spirito E Gesù ci dicono Andiamo Vieni Vieni Adoriamo il padre Quando mette fuori La macchina Della creazione E stiamo lì Ad adorare il padre E in tutto il giro Della creazione Allora il padre E il figlio Dicono Vieni 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 Fidio Seguiamo Gesù E Maria Santissima In tutti gli atti Della redenzione Adesso il padre E Gesù Ci dicono Vieni 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 Fidio Seguiamo lo spirito Negli atti In cui lui Fa il protagonista Non che loro Sossepa Impossibile Fanno tutto insieme Però io Devo separarsi Se no Non ci arrivo Allora E ho bisogno Di questa mia cosa Siccome lo spirito Da per tutto Fa da per tutto Eccetera Mi perdo nell'atto unico E faccio Oppure 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 Dico no Un attimino Spirito Santo Con te Facciamo le cose per ordine Dall'inizio Al principio Quando Dio Creò C'era la terra Lo spirito Alleggiava sulle altre Ah ok Lo spirito All'inizio 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 Quando lui procede Dal padre Quando lui Versa Mari di amore Nell'immacolato concepimento Quando lui concorre All'incarnazione Con il padre E con il figlio Quando lui Si riversa Potentemente Sugli apostoli Ma con la pienezza Dei doni In Maria Santissima E pertanto La pienezza Dei doni Che è il dono Della divina volontà Fuori della divina volontà Non possiamo ricevere La pienezza Della conoscenza Dell'intendimento Del consiglio Della sapienza Della pietas Del coraggio Del santo Timor No Allora Per ricevere Questi doni Devo entrare Nello spirito Sante Nella divina volontà E quindi Adorare Chiamare lo spirito Santo Ad attualizzare In me Questi doni Però scusa Maria Quando C'è un passo Dei bravi Luisa Che la Madonna Dice Tu sapi Che quando mio figlio Ti comunicava Queste verità Io stavo Ad ascoltarle A viverle Eccetera Però sempre E' quasi Il protagonista Il figlio In questi rumi Più che lo spirito Santo Tu che cosa Pensi Sempre lo spirito Santo No come protagonista Quando io Dico 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 Questa verità Maria Stava là Allora Il ruolo Dello spirito Il ruolo Dello spirito Il ruolo Dello spirito La persona Dello spirito E lui Senza lui Senza questa persona Noi non possiamo Ricevere l'incarnazione Di Gesù In noi Così come Non possiamo Chiamare Abba Padre Se non è lo spirito Allora Gesù Se ne è dovuto andare Gesù Si è dovuto Ecclessare Da Luisa Per farla girare Negli atti Della divina notazione No no Gesù stava così Con l'umanità Di Gesù Sì Era attaccato Perfetto Esatto E lo spirito Allora Chi è che fa questo E lo spirito E lo spirito Allora Gesù Nei volumi Non lo deve nominare Lo spirito Perché lo spirito È l'innominato È lui È lui È lui Però siccome noi Lo vogliamo conoscere Questo special spirito Ancora pensi che Te nascondi No Noi ti becchiamo Ti becchiamo ad intra Insieme con il padre Con il figlio Ti becchiamo Nell'immacolato concepimento Ti Ti Perché sei tu Senza nello spirito L'incarnazione di Gesù Io non la ricevo Non la ricevo Non la posso ricevere Per questo lui si dice Fortunati quelli Che vivevano il tuo tempo E anche queste verità Le possiamo ricevere Impossibile Senza Gesù Non possiamo ricevere niente Possiamo ricevere la grazia Senza lo spirito santo Per opera dello spirito santo Allora Allora Perché noi abbiamo Questa difficoltà Di relazione con lo spirito santo Propriamente perché Il regno della divina volontà È il regno dello spirito santo Senza di lui Non arriviamo Allora Queste verità Che sono Allora Possiamo dire che In questa verità È Gesù La rivelazione del padre Però Per ricevere questa rivelazione In me Sono lo spirito Se non c'è lo spirito in me Che acqua in me Per me La rivelazione Che Gesù mi dà del padre È un bel film È un film Non sono battezzata Senza lo spirito Dovrò tornare alla realità dell'uomo Ecco Esatto E' l'altro E' lo spirito E' lo spirito E' lo spirito E' amitare I uomini Al principio Al principio Lo spirito Aleggiava Alitava Sopra le acque Sopra il disordine Sopra il disordine Allora è importantissimo No? Sempre considerare Che Gesù Il padre Un'altra volta Ieri sentite una domanda Ma chi è che ha risuscitato L'umanità di Gesù Il padre O si è risuscitato lui E come fanno A stasse la razza E come fanno A stasse la razza Il ruolo Allora Il ruolo Nel libro della Vergine Maria dice Il libro Sì sì È il nostro problema Della divina volontà Che ci porta all'unità Allora Fermo restando Che noi Senza lo spirito santo Io pensiamo che Gesù Ma senza lo spirito santo Che è lo spirito di Dio Che è lo spirito di Gesù Noi non ci capiamo Un H Zero Nisba Nada Allora Fermo restando Che tutto questo È opera Dello spirito santo In noi Che in tutto In ogni cosa Dello spirito È Gesù Che mi rivela il padre Ma per ricevere in me Questa rivelazione Ci vuole lo spirito Per questo Lo spirito È il grande sconosciuto Nella chiesa Perché soltanto Nel vivere Nella divina volontà Ricevo la pienezza Della vita Dello spirito Allora Cercando di capire Di incarnare questo Ovviamente tutto quello Che si fa Nella divina volontà È lo spirito Che lo fa Però Per rispondere Alla sua domanda Noi vogliamo Per giustizia Come atto di giustizia Così come Ci mettiamo Con il figlio E con lo spirito Ad adorare A riconoscere La maestà Paterna e suprema Negli atti della creazione Così come Con il padre E con lo spirito Ci mettiamo Ad adorare La maestà suprema E il figlio Incarnato In tutti gli atti Della redenzione Così per sacrosanta giustizia Ci mettiamo Insieme con Luisa Con il padre Con il figlio A seguire gli atti Dello spirito Sono separato Ovviamente no Però lo devo fare Perché se no E allora quali sono Abbiamo detto Atto ad intra Immacolato concepimento C'è l'incarnazione La pentecoste Con la pienezza Dei doni Dello spirito santo Il ministero sacerdotale Con i sacramenti Il magisterio della chiesa Dal primo papa Fino ad adesso Tutti gli assangamenti Dei doni La santificazione Secondo le virtù In tutta la santità Dei santi E finalmente Non perché sia l'ultimo Ma perché è il primo È il dono Della divina volontà Con la rivelazione Di questa verità E che cos'è È la pienezza Di tutto Di tutto quello Hai detto che è il primo Perché già ce l'aveva Adamo come è Tampostibile Noi ce l'ha Stato Doviamo Infatti Infatti è bello Perché Ogni giro Ogni giro Non è mai lineare Il giro è sempre circolare Quando noi compiamo il giro Compiamo il giro Noi che andiamo dritti Andiamo Che facciamo La mia eternità Che come dice Gesù È un giacolo Che cos'è l'eternità L'eternità È un cinque È il centro È la santissima eternità Allo stesso modo Quando noi diciamo Il gloria Quando noi diciamo Il gloria E Luisa A un certo punto Sentiva gli angeli santi Dice gloria al padre Gloria al figlio Gloria al figlio E a proposito Gloria Nel linguaggio degli scritti La divina volontà Gloria Non vuol dire altro che Compimento della divina volontà Ah ecco Compimento Allora gloria È una Come una Una parola un po' vagano In giro La gloria dell'atleta La gloria del vincitore La gloria Che cos'è gloria? Gloria Gloria Allora gloria Allora se voglio avere un'idea Chiara Univoca Semplice Che vuol dire dare gloria a Dio È gloria Equal Compimento Della divina volontà Compimento Allora possiamo dire che Questo te Dà gloria a Dio Quando compie lo scopo Per cui è stato creato Grazie Alla santissima Divina volontà Che ha fatto Questo te per mano Le foglie che sono state postate Sono state messe E arrivato qui Ha compiuto lo scopo Per cui è stato creato Perché mi ha svegliato Stamente Però è un uomo Che deve dare di voi E certo Appunto Se no sto te Non lo compie Allora per questo Le cose create Possono dare gloria a Dio E soltanto se noi Gli diamo ragione e voce Se noi Come dice La foglia di te È stata creata Allora Ma la foglia di te Da quando è stata fatta C'aveva in mente una cosa Io sta fogliolina Deve essere colta Non so dove In Perù In Cina E poi la devono mettere nei sacchi E poi deve fare Un migliaio di chilometri E poi deve essere tostata E poi deve andare all'anabisco E poi deve essere Commercializzata E poi la mettono nella bustina Allora questa bustina Pensava Io arriverò Io devo compiere i miei scopi Io devo dare gloria a Dio Devo dare gloria a Dio Ma da gloria insomma Se una arriva Rifà quegli altri La rivoluzione Eh Allora Io devo dare gloria a Dio Chi me lo farà fare Chi me lo farà Allora Questa foglia di te Può dare gloria a Dio Soltanto se chi la utilizza L'uomo La riconosce La prende La prende Per dare compimento Alla volontà di Dio E prenderla Non soltanto riconoscere San Francesco Già riconosceva La sorella Foglia di te San Francesco Già Già sapeva Che il compito Della foglia di te Era quello di Essere utilizzata Con tanti principi buoni C'è Quello che io Sono chiamata a fare Nella divina volontà Che dà compimento Alla foglia di te Non è soltanto Sapere che la foglia di te L'ha fatta il mio padre Celestiale Non soltanto E utilizzare la foglia di te Per uno scopo buono E non per dare fuoco Alla tua casa Eccetera eccetera O non so che altro fare Farci una bomba Insieme al nitrato Ma a fare un'altra cosa Entrare nell'atto di Dio Che ha creato Che crea e mantiene La foglia di te E prendere questo atto Come mio Per dargli compimento Per fargli vita E quindi c'è questo atto Che si chiama Foglia di te Amo te E io me lo prendo E ricevo L'atto di volontà Di Dio Chiamato Foglia di te E la foglia di te Dio Finalmente Posso partorire La vita che avevo Certo Perché ogni cosa creata Dio gli ha messo Un ufficio particolare Che doveva Finalmente La foglia di te Compia il suo ufficio Di svegliare Marina Non lo posso Fare del bene E ringraziare Adorare Dio Per tutti gli atti Affinché Fino a tanto Che quella foglia di te Viene a compiere Il suo percorso Quindi posso prendere Chi la seminata Chi la malcolica Chi la malcolica Chi la malcolica Chi la persona Ovviamente Chi la Tutte le cose create Corrono verso Volume 18 Tutte le cose create Corrono verso La creatura E danno gloria a Dio Danno gloria a Dio Ovvero Compiono lo scopo Con cui sono state create Se vengono prese Dalla creatura Come atto Di divina vita Poi dove si era Da un innocente Anche quando dormiva E lui Ti cotidiamo Ma non è Cicco di grano Ogni volta Che fanno Qualsiasi cosa Tu cominci Cicco di grano E cominciai a ringraziare E qui la seminata E qui la pianta Tutto il lavoro Così vale con l'acqua Per esempio L'acqua è una cosa Che noi usiamo Tutti i giorni È una cosa Importantissima E proprio Prendere dalla voce Dell'acqua Tutte le funzioni Che è l'acqua Per l'uomo Per la natura Allora Adesso Lo spirito Lo spirito E Gesù Ci dicono La figlia mia Sono loro E lo spirito Ci dà sta conoscenza Se noi All'occhio Ma chi è questo Ma chi l'ha fatto No Senza dello spirito Non posso neanche dire Che Dio è mio padre Immagino se Dio Ha fatto qualcosa per me Allora Fermo restando Che sappiamo Che questa è la conoscenza Però Il verbo incarnato Lo spirito Vieni figlia mia Vieni Riconosciamo La potenza divina Nella foglia Di te E diamo gloria A nostro padre Allora In tutte le opere Della redenzione Adesso Da ora in poi Facciamo il giro Della creazione Ci sta Il cielo Le stelle La luna Il sole La terra La foglia di te E tutto quanto E poi ovviamente Entriamo nella redenzione E adoriamo E riconosciamo Facciamo tanti atti Che possiamo fare Di ringraziamento Di adorazione Di riparazione Perché Lucia Non faceva sempre La stessa cosa Si possono fare Trilioni di cose diverse Si personificano Diventano Anche fuori dagli schemi Ecco E quindi L'atto di Gesù Di predicare L'atto di Gesù Di moltiplicare Quello che abbiamo sentito Alla messa Ecco Sono atti Della redenzione E il padre Lo spirito Si nascondono E vogliono stare Adorare E si adorano Se stessi In questa opera In cui il protagonista È il figlio E negli atti Della santificazione Si mettono Ovviamente Nascosti Dietro lo spirito E seguiamo lo spirito Allora Siccome L'era della santificazione È questa E quasi noi Ci mancano Questa scaletta Però ne possiamo fare infinite Una delle possibili È questa Attia d'intra Immacolato conervimento Incarnazione Pentecoste Doni dello spirito Magisterio Del sacerdozio Sacramenti Magistero Della santa chiesa Con tutti i papi Fino all'ultimo Opera santificante Secondo la santificazione Secondo le virtù In tutti i santi E al fine Opera della santificazione Secondo la pienezza Della santità Di Gesù Cristo Che è il fiato Voluntà Sua Gerusalemme celeste Attraverso tutte quante Queste conoscenze Però Più entriamo Nell'atto E più entriamo E lo sminuzziamo Così come Io posso dire Immacolato con Cermin Oppure posso dire Alla nascita di Gesù Però Nella nascita di Gesù Che cosa posso fare? Dico Oh sai che ci sta qua Ci stanno nove granelli Io per ogni nove granelli Ci metto Un eccesso di amore Nell'incarnazione del verbo Nell'ultimo ci metto Nell'ascita L'amore trinitario L'amore costretto L'amore divorante L'amore operante L'amore solo L'amore imprigionato L'amore non corrisposto L'amore mendicante L'amore adonizzante È nato Allora posso sminuzzarli in quel modo Posso sminuzzarli in un altro Questa è la libertà dei figli di Dio La libertà dei figli di Dio Per questo Per questo Ecco I libretti dei giri Riesco a dirle adorando il crocifisso Riesco a dirle parole mie Ricevo gioia Pace Anche se non ripeto le stesse parole di Luisa Non so niente Giri Il fatto tu hai messo negli atti Anche il sacerdozio Però lui dice Come ha avuto i sacerdoti Della pietra Però anche i sacerdoti Nella libertà Perfetto Puoi dire qualcosa Sì Allora Ognuno di noi può essere sacerdote Ma ton Quanto è bella sta cosa E ci sia Che non mi può arrivare Ma ton Cominciò a scaldarmi Mamma mia No Altro che registrazione coraccia Stiamo facendo un altro coraccia No No ma È bellissimo Quello che Che sta dicendo Perché l'ultimo atto Che sia il nono Che sia il decimo È quello del regno Della divina volontà Noi possiamo Possiamo dividerlo In 36 Uno per ogni volume Possiamo dividerlo Però possiamo Giustamente Possiamo Ampliarlo Quest'atto qui Poi lo possiamo ampliare In 40.000 passi Giustamente Secondo La sensibilità Secondo quello Che lo spirito Vuole fare dentro di noi Però giustamente Quindi questo Questo giro Non finisce mai Si amplia All'infinito Questo è soltanto Una scaletta Per poter dire Per poter dire Così come la scaletta Di questo In realtà Se questa è la divina volontà Tutte le molecole Di ossigeno Che stanno in questa stanza Sono i atti Della divina volontà Come faccio a prenderli tutti Allora è come se abbiamo bisogno Allora O mi perdo Non vedo niente Però lui sarebbe stato Eclissata Però Gesù Aveva bisogno Di Eclissare la sua presenza Perché lei si potesse Slanciare in questi atti Andasse uno per uno Uno per uno Uno per uno Uno per uno Con un ordine Con una Utilizzando che cosa Le potenze dell'anima La memoria L'intelletto La volontà Soprattutto la conoscenza Soprattutto la conoscenza Allora lui diceva No? Il sacerdozio è una divina volontà Certo Allora diciamo Allora così come Nell'Antico Testamento C'è stato il sacerdozio I sacerdoti L'Antico Testamento Che cosa è che funziona Con i sacerdoti Loro Presi dal tribuno Di Come si chiama Lecisede No I Levi Erano i Leviti Allora i Leviti Tutti gli altri I discendenti Dei figli Di Di Giacobbe No? Tutti Nella terra promessa Hanno avuto Un pezzo di terra Manasset Cioè tutti quanti No? Gli unici Che hanno avuto Un pezzo di terra Sono i discendenti Di Levi Perché? Perché loro Dovevano occuparsi Questo è già Una conoscenza Per dire Il sacerdote Si deve occupare Solo di cose Sono di cose spirituali I Leviti Quindi i discendenti Dei Leviti Non avevano Il pezzo di terra Perché? Gli veniva Dato quello Di cui avevano bisogno Per vita Addirittura loro Potevano mangiare Delle offerte Perché? Però Il loro unico compito Non era quello Di pensare A Oddio Adesso la mia terra Viene invasa No, no Loro devono pensare Soltanto al Tempio E quindi I Leviti Allora entro Nella Divina volontà Nello spirito Se vuoi Che opera Nel sacerdotio Dell'Antico Testamento Anche se Questi sacerdoti Dell'Antico Testamento Non operavano Neanche nel Regno Della Grazia Immaginiamoci nel Regno Una Divina volontà Però sempre la Divina volontà Che aveva E loro che cosa facevano? Offrivano sacrificio E dai Uccelli Bestie E sangue di là E sangue di qua E mucche E agnelli Era un massaro Era una macelleria Un gioco Coracci Facevano i macellai Perché? Perché il punto è questo E che Dio diceva Voi Non può L'uomo Per quanto può Per quanto si sforzi Non può Offrire un sacrificio Adeguato Per soddisfare A che cosa? Alla grande offesa Del Deicibio Il sacrificio Non è possibile Solo un Dio Un compensa Allora Tutto questo massaro Di cose animali Eccetera Era per dire Innanzitutto È inutile che vi sforzate tanto Però potete offrire Del vostro Live Come si dice Del vostro Vivere Della vostra fonte Di sostentamento Per privarvi di qualcosa E per far vedere Offrire qualcosa Quando poi Gesù Ha strappato Il velo del tempo E lui Per la prima e unica volta È passato Come l'unico Gli altri sacrifici Lui come il vero sacerdote Non hanno più senso E quindi è lui Che ha sostituito È lui il vero sacrificio Ha istituito Il sacerdozio Del nuovo testamento Dice lui Il sacerdozio Della Santa Chiesa I sacerdoti Della Santa Chiesa Sono i dispensatori Della grazia Sono gli amministratori Della grazia Ecco Così come i sacerdoti Dell'antico testamento Erano coloro Che dovevano In un certo senso Amministrare Gestire Un po' Questa procedura Dei sacrifici Dei sacrifici Custodire Il tempio E amministrare Il poco Che si conosceva Della divina volontà Che erano I dieci comandamenti Quindi si potrebbe dire Che il sacerdozio Della Santa Chiesa Cattolica Il sacerdote Consagrando Con le sue mani In grossia Quello diventa Corpo, sangue E armine di vita Invece Si può dire Nel terzo fiat Che è lo spirito santo Che consagra l'anima La fa diventare La nostra vita Sì Infatti adesso Arriviamo al terzo sacerdote Sì Arriviamo Allora Gesù dice Così come Ovviamente Ho avuto Il sacerdozio Nell'antico testamento Che doveva compiere Il compito Che doveva fare Così come Questo sacerdozio In un certo senso È stato ampliato È diventato inadeguato Non è che Gamaliele O il Lele Non potevano diventare Apostoli Certo che potevano Diventare apostoli Però Non necessariamente Da loro Un sacerdote Dell'antico testamento Non lo so Zaccaria Oppure quello Poteva Magari È stato più difficile Perché era più difficile Per loro accettare Il messia Tant'è vero Che Gesù Si è dovuto Rivolgere ai pescatori Però Non è che Era preclusa Per loro Assolutamente Allora Così come Ho avuto Il sacerdozio Dell'antico testamento Ho avuto Il sacerdozio Del nuovo Della mia chiesa Avrò il sacerdozio Non i sacerdoti Il sacerdozio Allora Questa è una cosa Molto importante Nel senso che Il sacerdozio Sacerdozio Vuol dire Offrire Offrire L'offerta È colui che offre La vittima È colui che Duce Le cose sacre È colui che offre La vittima Gesù Nella divina volontà È Gesù stesso Volume 12 Come era bello Vedere Gesù E andare Da un'anima All'altra A pronunciare Lui stesso Le parole Della consacrazione E l'anima Diventava Ostia vivente Allora Che cosa vuol dire Che è il sacerdozio Del divin volere Ovviamente Dobbiamo pregare Pregare Che ci siano Sacerdoti Della chiesa Che siano Apostoli Del divin volere Ma ciò non vuol dire Che sia una categoria Univo Da loro Il sacerdozio Del regno Della divina volontà È qualsiasi persona È qualsiasi persona Nella quale La divina volontà Consacra Se stessa E offre La vittima Gesù Cristo Per ripetere L'ufficio Dell'umanità Di Gesù Cristo Sulla terra Dove Non si fa più Attraverso O soltanto Attraverso La povera Ostia Santa Perché Ma Gesù vuole Consacrare Se stesso In ostia vite In ostia vite E infatti L'internazione Del verbo È il concepimento Della divina volontà Nell'umanità Di Gesù E quindi Il regno Della divina volontà La consacrazione È il concepimento Della divina volontà In Maria In Giovanna In Luisa E nella procedenza Dei figli Del divin volere Questo è Per quanto sia Scandaloso E allora Già ci stiamo ampliando Con il giro Che la santificazione Stiamo entrando E pregando Adorando Lo Spirito Santo Nel sacerdozio Del regno Nel sacerdozio Del regno Che possa essere Un sacerdozio Santo Non soltanto Sacerdozio Ministeriale Ma sacerdozio Regale Perché il sacerdozio Del regno Della divina volontà È il sacerdozio Di Melchisedec Non è il sacerdozio Melchisedec Non si sa Da dove veniva Chi l'ha ordinato Chi l'ha autorizzato Ab eterno Chi l'ha ordinato Quel vescovo L'ha ordinato Non si sa Chi è il vescovo L'ha ordinato Melchisedec Si sa Allora Il sacerdozio Regale Della divina volontà È il sacerdozio Io sei un sacerdote Da sempre Secondo l'ordine Di Melchisedec Perché è il sacerdozio Di Gesù Cristo Ab eterno Ab eterno E' il sacerdozio Del regno Della divina volontà Cioè nel senso Che a noi Nessun vescovo Ci ha imposto le mani Ci ha detto Di ordine Sacerdote Ecco Questo Questo non vuol dire Ovviamente Il sacerdozio Ministeriale L'amministrazione Dei sacramenti E' esclusiva Assolutamente Del sacerdozio Ministeriale E dobbiamo pregare In ginocchio Che ci siano Tanti sacerdoti Ministeriali Perché loro hanno Esposizione Verso tante anime Perché loro hanno Potere Verso tante anime Responsabilità Verso tante anime Che Utilizzino Il loro sacerdozio Ministeriale Per farlo diventare In se stessi E in altri Sacerdotio Reale Questo è l'effetto Moltiplicatore Della divina Perché il popolo Di Dio Prenderebbe di più Dai sacerdoti Sente uno di noi Sì Fino a un certo punto Ma si viene Pronunciata Allora Per espandere Il nostro atto Nella santificazione Stiamo attenti A non scendere Nel Cosa si dovrebbe fare Restiamo nel giro Nello spirito santo Preghiamo Che Il sacerdozio Ministeriale Si trasformi Potentemente Venga arricchito Come sacerdozio Regale Non dobbiamo dire Pensare Nient'altro E questo è Già abbiamo preso Un'altra Passo Un'altra direzione E giro il spirito santo E quindi Spirito santo Siamo E siamo Ci uniamo E ti adoriamo Nella divina volontà Come procedi Dal padre E dal figlio E ti preghiamo Che Così come tu procedi Dal padre E dal figlio E formi con loro Il regno Dell'ordine Perfetto Della pace Perfetta Possiamo noi Essere uno Tra di noi Dacci l'unità E procedere Da Gesù e Maria Con Luisa Come capostipite Nella procedenza Nella seconda generazione Dei figli della luce Che è il regno Della divina volontà E poi dico Spirito santo Così come tu Concepisci Maria Santissima No Come alba Della redenzione Vieni Vieni A versare su di noi Questi mari di carità E di amore Ti adoriamo Spirito santo Nell'atto Della incarnazione In cui tu Concorri Insieme con il padre E con il verbo Quando il verbo In obbedienza Perfetta Dice Eccomi Manda me Sono contento Di farmi sgozzare Infinite volte Per ognuno Dei nostri figli E lo spirito santo Con tutto quello Che Le sofferenze Conoscendo le sofferenze Che il figlio Andava a soffrire Fa così Acconsente Acconsente Con gioia Acconsente Con gioia eterna Che anche il dolore Eterno Della vittima E poi Quando è che lo spirito santo Si può veramente Iniziare ad agire Come protagonista Quando Gesù Avendo compiuto La redenzione Quindi Essendosi Fatto squartare Avendo aperto Per noi Il regno Della grazia Ci manda Il paraplito Quindi La pentecoste La pentecoste E dico Spirito santo Tu lo sai Quanto Voglio riceverti Spirito santo Non solo Come ti ha ricevuto San Pietro Sant'Andrea San Giovanni San Bartolomeo Ma ti voglio ricevere Come ti ha ricevuto Nostra madre santissima Allora io vado Per esempio Nel giorno della pentecoste Nostra madre santissima Lei dice Io ti prometto Che farò scendere Su di te Lo spirito santo Perché tutto quello Che vuole lei Lo spirito lo fa Io farò scendere Con questa autorità Io farò scendere Su di te Lo spirito santo Come scende in me Perché ti consumi Tutto ciò Che non è volontà di Dio Con il suo alito Ardente Ti infiammi E ti faccia vivere Solo nella vigna volta Madre santissima Fuoche e fiamme Versa nel cuor mio Affinché mi consumi tutto E bruci tutto Ciò che non è volontà di Dio L'aggiagulatore Del regno E del giorno E possiamo mettere Il nostro giro Ognuno poi Se lo architetta Come vuole E poi giustamente Che succede Dopo la pentecoste Nuova scienza Gli atti degli apostoli Chi è lo spirito Spirito Ti seguo Nel ministero sacerdotale In tutti gli apostoli In tutto quello che hai fatto In tutti i viaggi Di San Paolo Di San Pietro Non soltanto Ma tutti quelli Che non so Tutto quello Che è stato fatto I primi viaggi missionari Le difficoltà Le prime persecuzioni Della chiesa Le catacombe Poracci Noi stiamo qua In una catacomba Però quelle di prima Erano ancora C'era più umidità E poi qui Noi stiamo Ci abbiamo i quadri Lì c'avevano I loculi Dei martiri Lì c'avevano I peschi I pesci E' un po' diversa La situazione Vediamo Il Colosseo Sembra un piccolo Rudere Innocuo Un bel monumento Invece no Ai tempi Ai tempi Nostri amici Invece Ci stavano lì A mangiare E' il boa Che si ingoiava A un martire sano No Per darci un'idea Chi è che gli ha dato la forza Lo spirito Allora Allora Spirito Santo Dammi a me Questo valore Questa forza Insieme alla conoscenza L'intendimento Al consiglio Alla sapienza Alla pietas Al coraggio Al santo timore di Dio Vieni a me Vieni a darmi questi doni Fatti vita di questi doni in me E ovviamente anche Nei sacramenti Della Santa Chiesa Tutti i sacramenti Non soltanto i sacramenti Il magisterio Della Santa Chiesa Dal Papa Tutti i dogma Tutti gli insegnamenti Che sono stati ridati Tutto il cammino Della Santa Chiesa Dall'inizio fino ad adesso Che a noi ci pare Lui scontano Ma Pensa tutti i concili E non lo devo fare Fino all'ultimo Il concilio Vaticano II Che rivoluzioni Che cose Che Lo spirito santo E a noi ci pare lì Tranquillo Ma questo L'altro che Tutte le rosie Possiamo seguire In realtà possiamo seguire Tutti gli altri Lo spirito santo Perfetto Perfetto Questo è giro Nello spirito santo Nella magisteria Nella Santa Chiesa Tutta la storia Nella Santa Chiesa Attraverso Lo spirito conculcato Lo spirito ostacolato Ma lo spirito che trionfa Con l'autorità Del magistero Nella Santa Chiesa Non soltanto Ma attraverso L'esempio Di tutti quanti i santi Fino al Compimento Della santificazione Con lo spirito santo Che ci dà Questi scritti Perché Luisa scriveva E lo spirito Che suggeriva E lo spirito E lo spirito che fa Perché questa È l'opera dello spirito Quindi ogni E quindi La Gerusalemme celeste Dove tutti questi scritti Sono i caratteri d'oro Impressi sulle mura Della Gerusalemme celeste E a proposito Gerusalemme celeste Siamo ciascuno di noi E quindi Le verità Dovano essere impresse A caratteri d'oro E di luce Quindi eterni Quindi non materiali Spiritualizzati In ciascuno di noi Avevo pensato Che fosse La nuova chiesa Ah no Certo Sì ma Anche tu sei chiesa Certo Non lo so Per me Se lo spirito santo Non ha messo Nessuna condizione Dice Devi aspettare Comincia adesso Se io ci credo Che comincia adesso A me pare A me pare che i libri Si stanno muovendo Anche prima Della causa Vabbè non insista Su questo No 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 Allora E' importante sapere questo Per non ostacolare lo spirito Ci dobbiamo convincere di una cosa Che non c'è nessuna cosa Che deve succedere Nessuna condizione Che L'unica condizione necessaria e sufficiente È la mia volontà Dentro la volontà di Dio Se Se devo Se penso che devo aspettare Al balcone No Questo è fondamentale Questo è fondamentale Perché il regno della divina volontà È il regno interiore È il regno dello spirito Infatti Gesù dice Il regno della divina volontà Sta dentro di voi Sta in mezzo a voi Allora E lui insegna a pregare Venga il tuo regno Allora Come per dire no Divina volontà Tu nell'antico testamento Hai regnato con i comandamenti Nel nuovo testamento Hai regnato Nell'ordine della grazia Adesso Vieni a regnare Con la perfezione Del tuo regime Questo regime Si chiama Come in cielo e in terra Allora L'unica condizione Necessaria E sufficiente Affinché questo regno Si compia È che la mia volontà Riceva L'atto operante Della volontà di Dio Non ci vuole La causa di beatificazione Non ci vuole L'imprimato Non ci vuole Tutte cose Sono Queste cose Servono E il Signore Farà tutto Però Perché il regno Si attualizzi In me Ed è l'unica cosa Che è importante Perché se si attualizza In me Si può attualizzare In tutti Se non si attualizza In me Io non ho nessun diritto Nessun dovere Di fare O dire niente L'unica condizione Necessaria E sufficiente È che la mia volontà Si fonda Nella divina Perché se no Aspetto il treno E il treno può passare Tra vent'anni Ancora non è passaggio Non hanno ancora beatificato Lisa E te che hai fatto E te che hai fatto Perché fosse Beatrizia Devo fare gli atti Devo ricevere il regno Infatti il regno Della divina volontà Che è sempre pegnato Nell'Antico Testamento C'è una di queste tavole scritte Tutto era anche esteriore Visibile Pian piano si va Elevando Ma si va anche interiorizzando Il regno della grazia Si ha bisogno Del segno Dei sacramenti Nel regno della divina volontà È un regno interiore Non c'è bisogno Di nessun segno esterno Di nessun abito Di nessun simbolo E nel fare questi giri Io posso moltiplicarli Per il bene Cioè Racchiudere nel giro Che faccio tutte le creature Come se tutte le facessero con me Non posso È necessario Cioè Non posso fare a meno di Se la divina volontà opera La divina volontà opera In modo universale Quindi se io voglio dire Volontà divina Vieni a fare questa cosa in me Però non la fare in loro Non è possibile Quindi racchiudo nel mio atto E gli atti che tutte le creature Ecco Sì Per necessità Per definizione di volontà divina Perché la volontà divina Opera soltanto In modo universale Onnipotente Onnivegente Eterno Infinito Immenso Questa era soltanto Una proposta Una piccola ipotesi Per dire Così come abbiamo un'idea Di comandare Nella creazione Così come abbiamo un'idea Di comandare Nella creazione Dobbiamo avere un'idea Un'ordine Per andare alla santificazione Quando Gesù dice Io adesso vengo in te Quando noi chiamiamo Gesù viene in me A fare questo Adesso tu vieni in me E girare Certo E questo Certo Infatti E infatti Questa è una cosa interessante Qualsiasi cosa Noi facciamo Nella divina volontà Anche quando In un certo senso Anche quando Gesù Con il padre Con lo spirito Quando diciamo Gesù Corollare Inseparabile Dal padre Dello spirito Sempre Sempre Anche quando Lui si abbassa A fare le nostre cose In noi Possiamo Ancora dire Che quello Eppure Un girare Nella divina volontà Nei suoi atti Che ci dispone Però Così come la divina volontà Si abbassa in noi Poi Gesù dice Vieni Vieni Alzati in noi A fare tutto quello Che noi facciamo Che è andare nella creazione Andare nella redenzione Andare nella santificazione Ma qualsiasi cosa Che facciamo Per esempio La santa messa La santa messa È il perfetto giro Nella redenzione In tutte Per esempio Il gloria No Ci ricordiamo La preghiera del gloria Che dura circa 30 secondi La preghiera del gloria Insieme al padre Al figlio e allo spirito È un perfetto giro Nell'eternità Nel tempio E nel tempo Quando Lui si assente Gli angeli e i santi Che dicono Gloria al padre Gloria al figlio Gloria al spirito santo E poi Silenzio E la guardano E le dicono E dice come se aspettassero Qualcosa da lei Il padre Il figlio E lo spirito santo E Gesù dice Figlia mia È compito dell'anima Che vive nella divina volontà Di Completare la seconda parte Del gloria Perché Con la potenza Di poter girare Come una rotellina Nella divina volontà È lei Che può dare gloria Vuol dire Compimento di volontà Come era nel principio Nel principio Nel principio Era il verbo Il verbo era con Dio E il verbo era Dio Al principio Da Genesi Quando Dio creò Il cielo era Lo spirito Alleggiava sulle acque Ecco Padre Figlio Spirito santo E quindi Come era nel principio Che stiamo facendo Stiamo entrando Nell'atto ad intra Generazione del verbo Procedenza dello spirito L'atto ad intra Della Santissima Trinità Sì Noi stiamo parlando Del principio eterno Del principio eterno Il principio eterno Il principio eterno Eterno Sì Il principio Infatti è bellissimo Quello che stai dicendo Perché il principio eterno Come era nel principio E questo C'è il dono Succa sette secondi Per dirlo E già stiamo facendo Un giro completo Nell'eternità Come era nel principio Ed ora Nel momento in cui dico Ora Ora Implica Tempo 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 vuol dire Quali sono le prime Le creature necessarie Per la nostra vita Sono lo spazio e il tempo Ad extra Allora Ad intra Esce ad extra Nel tempo Nell'ora Qual è il primo atto Ancora prima Voglio dire Nella logica del tempo divino Ancora prima Della creazione dell'uomo Qual è il primo atto Ad extra Ho bruciato la seconda volta Ma lo spirito Fantastico Fantastico Com'era nel principio Ed ora Com'era nel principio Padre Vigenera Il figlio Il figlio Che ama il padre Lo spirito santo Che procede Noi siamo lì Stiamo adorando Prima che il tempo sia Come dice Il libro della sapienza Prima ancora Che tutto sia Tu sei con me E parla di Maria Santissima Ma parla anche Della divina volontà Operante nella creatura Perché soltanto Nella divina volontà Come Gesù Luisa dice Nel volume 11 Dice il sacerdote Mi ha detto Che non è possibile Entrare negli atti ad intra Ma Gesù Ma Gesù mi vuoi spiega No figlia mia Nella divina volontà L'anima entra Di diritto Di necessità Per giustizia Negli atti ad intra Della Santissima Trinità Come era nel principio Ed ora Qual è l'ora Volume 22 23 Non mi ricordo Figlia mia Tu devi sapere Che il primo Atto ad extra Della mia divina volontà Il primo atto Ad intra La Santissima Trinità È l'unico atto ad intra Il primo atto ad extra Ad extra Vuol dire successione Poi di atti Qual è L'incarnazione del verbo Perché in lui Per lui In vista di lui Che tutti sono stati creati Incluso Adamo E quindi È perché Immagine e somiglianza Di Gesù Cristo Che Adamo è stato Perché il verbo Si fa carne Ha senso creare Perché è lui Che deve divinizzare E riconciliare Tutto in sé È in virtù di lui Che Adamo Può vivere Una divina volontà Quindi l'ora È Gesù Cristo Lui è l'alfa L'omega E tutto quello Che c'è nel mezzo E quindi Come era nel principio Ed ora Quindi in Gesù E quando parliamo di Gesù Parliamo di tutto Quindi ovviamente Lui è venuto Nella creazione E quindi È entrato nella creazione Quindi gloria al Padre Al Figlio e al Spirito Santo Nella creazione Negli atti di Gesù E in tutto quello che Gesù Viene È la rivelazione del Padre Ora È sempre Nei secoli dei secoli Quindi ritorniamo all'eternità E come ci ritorniamo? Dove? Come dire L'eternità Entra nel tempo Com'è che il tempo Rientra nell'eternità Tramite la divinizzazione Della creazione E come si compie Questa divinizzazione Della creazione? Con lo Spirito Santo E quindi gloria al Padre Gloria al Figlio Gloria al Spirito Santo Compimento della vostra volontà Così come si compie Nel vostro atto ad intra Padre che generi figlio Figlio che adori il Padre Spirito Santo che procedi Così come si compie Gloria, gloria, gloria Nell'ora Nell'eternità Che entra il tempo Che è Gesù Cristo Che entra nella creazione Che compie la redenzione Ed ora E sempre Nei secoli dei secoli E si protrae per sempre Nei secoli dei secoli Rientriamo in quest'atto ad intra E ci portiamo Tutti appresso Come ci portiamo? Santificati Divinizzati E chi ce lo fa? Lo Spirito Santo E quindi nel gloria al Padre C'è un perfetto giro Dall'eternità Al tempo Rientrando nell'eternità Dall'atto ad intra Ad extra E tutto quello che l'extra è È creazione Redenzione È santificazione Che è quella L'opera per cui La creazione rientra Nel grado di Dio Divenizzata Nei secoli dei secoli Abbiamo detto Gloria Padre Dei venti secondi Abbiamo fatto un giro Nella divina volontà Completo Completo Nella misura in cui Lo vogliamo Lo santiamo E intendiamo farlo La creazione degli angeli E lo spirituale La formazione degli angeli Quando è avvenuto In quale sequenza Allora Entriamo in un campo Però diciamo che L'angelo Il compito dell'angelo È quello di adorare La divina volontà Di adorare la divina volontà Sia che questa divina volontà Operi in Dio Che questa divina volontà Operi nella creatura Anzi Il compito dell'angelo È quello di adorare La divina volontà Operante Nell'umanità di Gesù Cristo Nel verbo incarnato Quindi l'incarnazione Del verbo Viene prima Nel senso che È per lui In vista di lui Che tutto viene creato Anche gli angeli Sono esseri creati In vista di lui Che sono creati gli angeli Per adorarlo Non soltanto come verbo Ma come verbo uomo Per questo gli angeli Alcuni angeli Sono caduti Perché lui hanno detto Io Luce purissima Devo adorare uno Che prende carne Un Dio Che non si fa angelo Ma che si fa Uomo Naa Non servia Allora proprio per questo Allora Allora Lucifero Tutta luce Chiaro che sapeva Della creazione E dell'incarnazione Del verbo E dice Io che devo adorare Il verbo incarnato Nella donna In cui concepirai il verbo Io che devo Adorare la divina volontà Nell'uomo Che è fatto di materia No Per questo Gesù è stato fatto Per poco tempo Meno degli angeli Nel senso Nel senso come dice il salmo Che Gesù si è incarnato In un'umanità Che era caduta Quando noi Quando noi viviamo fuori Della divina volontà Noi siamo da meno degli angeli Perché la nostra La nostra umana volontà Ci tiene Però quando viviamo Nella divina volontà Gli angeli Fanno Sgomitate Per adorare La divina volontà In noi Fanno sgomitate Se stiamo fuori Della divina volontà L'angeli Come posso aiutare A questo Combinare con un'altra De quelle Mamma mia Ma la carnaccia E dice Però continuano 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 Indefessi Indefessi Quando noi Entriamo Nella divina volontà E facciamo Gli atti Nella divina volontà Gli angeli Treme bondi Quando facciamo Le ore della passione Nella divina volontà Treme bondi Prendono Prendono questi atti E fanno la navetta Dalla terra al cielo Perché vedono Quella stessa divina volontà Che loro adorano In cielo La vedono Operante Con la stessa potenza Con la stessa maestà Con gli stessi effetti infiniti Dove Nella 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 Insignificante Di grazia Di Maria grazia Maria è la regina degli angeli E per questo Per questo Quella donna La odiano Per questo Gabriele Si è inginocchiato Nei confronti di Maria Non perché Maria è bella Santa Piccolina Bellina E quindi Che cosa viene Prima Prima viene L'incarnazione Del vero Per lui Con lui In vista di lui Tutto Creature spirituali Creature angeliche Creature materiali Sono state create Mi è venuto Atto primo Centrale E necessario Bellissimo Cosa È L'incarnazione Del vero L'atto primo L'atto primo L'abbiamo detto E' il primo E' il primo atto D'extra Perché senza Di l'incarnazione Del verbo Non c'è niente Non c'è la creazione E' proprio in vista Di lui che tutto È stato creato Quindi è l'atto primo Atto centrale L'incarnazione Del verbo Perché il verbo Si è fatto carne E ha regnato Ha vissuto In mezzo A noi Nel senso che Quando l'eternità Prende carne E si fa Verbo incarnato Entra Nel mezzo Dell'umanità Nel mezzo Dei secoli Nel mezzo Dei tempi Nel mezzo Del mappamondo Nel mezzo Della storia Nel mezzo Della tua vita Quindi Gesù entra Nel mezzo Lui è il centro E' il centro E' il principio E' l'atto primo L'incarnazione Ma è anche L'atto centrale E' l'atto centrale Lui Dicono inscritti E lui E' il rimedio E' il legame Di tutti i secoli E' come se La calamita Che riconduce Tutto E riunifica Tutto Per portarlo Al padre Quindi Atto primo Atto centrale Atto necessario Necessario Giusto per ricordare Perché senza Dell'incarnazione Del verbo Non soltanto C'era chiuso il cielo Ma Noi non esistiamo Questo è il punto L'incarnazione Del verbo Non è Una condizione Per la redenzione Non soltanto Voleva fare un lavoro aggiuntivo Che Gesù Ha dovuto fare Senza Dell'incarnazione Del verbo Non soltanto Noi non siamo salvati Ma noi Non siamo Infatti Ogni volta Che recidiamo il credo Durante la santa messa Diciamo Per noi E per la nostra salvezza Allora Scordiamoci il peccato Per un momento Facciamo conto Che il peccato Non sia mai stato commesso Per la nostra salvezza Lo togliamo Resta per noi Per la nostra esistenza Se lui non si incarna Immagina La somiglianza Di chi vengo creata Per chi vengo creata Chi mi divinizza Che interesserà Dio a crearmi E per lui In vista di lui Immagina la somiglianza Di lui E lui Che può divinizare I miei atti E lui Che mi riconduce Al padre E lui Che mi riporta All'origine E quindi Atto necessario E l'esistenza Ma allora Quelli che dicono No No E no Quelli proprio Per essere Un grande dolore Per il Signore Perché Infatti Il mistero Della perdizione È il mistero Infinitamente Più grande Della Santissima Trinità Questo mistero Noi Sarebbe per noi L'albero Del bene Del male Noi Non lo vogliamo Investigare Non ci vogliamo Mettere E come per dire Come per dire Adamo gli ha detto Sì Lascia stare lì Non ti preoccupare Allo stesso modo Come in Maria Valtoparta Quando gli apostoli Ancora ringalluzziti Noi In 40 giorni Quando Gesù Appariva loro E ancora Ci avevano Quella specie Di supervietta Che diceva Ma Giuda Ma lui che fa Gesù è dovuto intervenire Il tuo silenzio Sul dolore eterno Di ti Allora Perfetto Allora Il mistero Di un'anima Che pecca Contro lo Spirito Santo Del resto Che dice Questo è falso Questo lo rigetto Sebbene io sappia Che è vero Questo è il peccato Contro lo Spirito Santo Negare la verità Sapendo che è vera Dire che questo è nero Sapendo che è bianco Non è giudato Esatto Allora Questo Allora Questo è una cosa Che è talmente Ascrusa Non mi appartiene Che io non la voglio indagare La Santissima Trinità È un libro aperto È una goccia di te In confronto Al mistero Di un'anima Che si vuole perdere Perché entriamo In una sfera Che non appartiene a Dio Che ci sta suonato Santo Comunque anche se Anche lui dice Che anche se Adamo Nessi peccato Lui sarebbe sempre Un glorioso Per questo abbiamo detto Perfetto Per questo abbiamo detto Atto primo Atto centrale Atto necessario Perché Anche se il peccato Originale Non fosse stato commesso Lui dice Io sarei venuto Comunque sulla terra Per farci vivere A divino in volere Perché lui deve attualizzare Tu hai detto Lui è venuto Per farci vivere Nella divina volontà Perché Perché c'è stato Lo strappo Con l'adamo Con il peccato di amo Però se Adamo non avessi peccato Aveva nessuno Nella divina volontà Ma Adamo Poteva vivere Nella divina volontà Perché il verbo Si incarna Adamo poteva fare I suoi atti Nella divina volontà Soltanto perché Erano fatti E attualizzati In Gesù Cristo In Gesù Cristo Quindi non importa Perfetto Perfetto Perché Adamo Si è stato creato A immagine Somiglianza Diché Dell'astrofisica No Di Gesù Cristo Per un uomo Per un Dio E quindi Quando creava Adamo Lui Lui rimane Estatico Lui rimane Estatico C'è anche Quella relazione Lui vedeva Anche Vedeva I suoi riflessi Solutamente Proprio per questo Nella divina volontà Possiamo entrare Appunto Nel lato Della Santissima Trinità Della creazione Dell'amo E prima ancora Che Adamo Si è creato Possiamo ringraziarlo E dire quel ti amo Al posto di Adamo Insieme a un'adamna Quando Dio padre Parlava di Adamo Concorreva anche Il figlio Gesù Cristo E poi lo concorreva Concorreva Perché era nascosto Come faceva Allora Chi è che passeggiava Secondo voi Adamo Non lo faceva Gesù Cristo Chi è che si faceva Le passeggiatine Era lui Che salite Era lui Ah certo Meltisedec Che l'hanno chiedendo Gesù Cristo Meltisedec Chi era Era Gesù Cristo Allora Gesù Cristo È Se lui non è Noi non siamo È vero È Gesù Cristo È vero uomo È vero Dio Quindi anche se Adamo Lui si sarebbe sempre Incarnato È certo Che si Assolutamente Sì Assolutamente Sì E dice Però ovviamente Non avrei potuto Fare la redenzione Tutti Mi avrebbero potuto Vedere Tutti Ha divinizzato Ha divinizzato Ha rifatto Tutti Gli atti umani Ecco E poi Tre anni Ha utilizzati Per Diciamo La redenzione Diciamo Che se Adamo Non essi peccato Noi avremmo vissuto Una realtà Non avrebbe avuto I figli storpi Ma tutti perfetti Però lui si beva Sempre una creatura Che doveva rimanere Vergine Si faceva la luce Per concepire Il figlio di Dio Avrebbe sempre scelto Una Più Se il peccato originale Non fosse stato commesso Il concetto di non-verginità Non esisterebbe Ovviamente Con la luce Come Maria Diventava un luce La volontà È un fatto umano Non è un fatto Membranale Un fatto Ma perché doveva scegliere Una donna Anziché un'altra A quel punto Capito Perché doveva scegliere Maria E non un'altra donna Che comunque Aveva vissuto Sempre una divina volontà Non c'è tolla donna Che poi Questa donna È Maria Ma Se non c'è Il peccato Può scegliere un'altra O no Lui dice Chi di chi Posso chiamare madre Chi vive nella divina volontà Non può scegliere Anche un'altra No No E adesso E' allegato Per lui Il suo incarnarsi fisico Che differenza c'è Allora Se noi riceviamo La vita divina di Gesù Non ci deve preoccupare Se Gesù Si incarna in lei Si incarna in Gesù No Perché anche Abba Eterno Gli dà La sua moralità Quelle sembianze Così come Così Così Ciò Così Quello che è La divina volontà È per natura La Madonna E' Abba Eterno L'anima che vive Nella volontà È per grazia È per grazia Allora Come dire Che lui si incarna In lui In lei O in lei Io Lo chiamo Figlio Perché è figlio mio Perché lui si incarna in me Perché lui si incarna In chi fa la sua volontà Come dice Ma chi è Chi è mia madre Chi è mia madre Questa è È la insegnanza eterna Si incarna In chi vive Esatto Per questo dice Sembrava l'offesa La tua madre Ha trattato No Insegnanza subliga Perché Maria non si offende Perché Maria dice Ai figlio mio Quanto vorrei Che tu ti incarnassi In tutti i nostri figli Che tutti ti facciano da madre Figlia mia Vieni tu A dividere la divina volontà Se tu vieni a vivere la divina volontà Io ti do la mia maternità La divina verso Gesù E che lei è gelosa Ad essere la madre di Gesù Lei vuole avere Trilioni di madri Perché sa che cosa vuol dire Essere madre di Dio In ciascuno di noi In ciascuno di noi L'amore materno Non è un'invenzione umana L'amore materno È un distillato Lo stavo leggendo proprio ieri In un passo sublime Del volume del 35 Non mi ricordo la data Quello che dicevamo prima L'amore materno È un distillato Dell'amore divino L'amore patologico L'amore materno Per definizione è dominante Quindi per definizione L'amore materno È quella parte che si nasconde La parte nascosta La parte che si sacrifica La parte che si orgoglia La parte che Allora per definizione Per farci conoscere Quest'amore materno Comunque lui si sarebbe Incarnato nella donna Perché noi potessimo vedere L'amore materno di Dio Che è l'amore Che dà del suo sangue Viscerà E l'amore nascosto L'amore di sacrificio Allora Dio per questo Così come lui crea Il cielo, le stelle, il sole Per darci un'idea Senza la creazione Non abbiamo nessuna idea di Dio Così come se noi ci mettiamo Nell'atto unico Facciamo om Non riusciamo a girare Negli altri L'amore di volontà Fuori di testa Te ne vai fuori di testa Allora Maria Santissima Maria Santissima Con o senza peccato originale È una creazione perfetta di Dio Che ci dà la vita E ci fa vedere L'amore materno di Dio Che lo devo ricevere come mio? Sì 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 Allora c'è l'atto Di divina volontà Chiamato non ti scordare di me Chiamato opera Chiamato luce Chiamato foglia di te E c'è l'atto di divina volontà Sublime Il più bello di tutti gli atti creati No? Chiamato Maria Santissima E meno male che la crea E meno male Perché mi fa vedere Mi fa Perché mi dà L'amore Mi dà l'idea Mi dà la vita Della maternità Dell'amore materno Che lei la fotocopertisce Tutto Ah sì Nel senso che lei è il compendio Di tutto il creatore Come Luisa si spiega Si descrive La nascita di Gesù Maria che si Si equalizza Diventa una luce E da lei E da questa luce E c'è un'altra luce Che è Gesù Ecco come avremmo noi Concepito Se fossimo rimasti Nella dignità Nella dignità Nell'innocenza Che è originale C'è una vera Due luce Che daremo vita D'altra luce Sì Però questo concepimento Puro, santo, bello Il compimento di questa promessa Lo troviamo dove? Lo troviamo nell'immacolato Concepimento di Maria Lo troviamo Nell'incarnazione del verbo E allora Sebbene Maria e Gesù Non abbiano figli Nell'ordine naturale Nell'ordine Non vuol dire che noi Non troviamo l'atto Del concepimento Nella divina volontà Lo troviamo Nella divina volontà Così perché Il concepimento Di luce È il concepimento Della divina volontà Nella creatura Allora Soffriamo pure Le conseguenze Del peccato originale Ma non ci intaccano Nel senso che La divina volontà È la purificatrice E trasforma Tutte le luce Tutto si può fare Nella divina volontà Anche concepire Ovviamente Nell'ordine naturale Un atto umano Nella diventa un atto di luce Sono tanti Sì Anche l'atto umano Nella diventa un atto di luce Sì È purifica È purifica No Sì L'atto sublime Della pena Della privazione Sublime Così come La privazione Del padre Per Gesù Che l'ha sofferta Dal momento Il suo concepimento Dice L'atto più penoso Più duro In tutta la mia vita La pena più grande È che Nonostante io sono E fossi Vero uomo e vero Dio Nelle pene Mi sentivo isolato Anzi Rifiudato Allora immagino un vero uomo E vero Dio Che si sente isolato Dalla sua natura divina Se vero è impossibile È il tessus Questa è una pena Talmente Inconcezione È una pena divina Questa pena divina Si può soffrire Solo nella divina volontà Questa pena divina La sofferta Non sta mai Santissima Perché Luisa Gli dice Ah ma Ma sta mai Santissima Non la sofferta No figlia mia Quante volte L'ho lasciata Nell'ho stato Di bucacchino E la sofferta Luisa Perché Così come la redenzione Si doveva fondare Sulla pena più atroce Non sui fiodini E non sulle spinette Ma sulla pena Della privazione Della divinità Per riparare Il vericidio Così il regno Della divina volontà Si deve fondare E basare Che la pena di Luisa È quella di stare nel letto Ah ma zeccole È la pena Della privazione Della privazione Esattamente Non l'avresti conosciuto Esatto Tu mi devi Bellissima Tu mi devi ringraziare Questa pena Perché è il segno Che io da te sono venuto Perché tu mi hai conosciuto E che in questa conoscenza Io l'ho sottratta In questi vuoti Che tu sentivi Non sentivi in te La vita Che costituisce la tua vita E subivi morte E continuo Questo è il segno Che tu mi possiedi Che da te sono venuto E tu mi hai conosciuto Quanti vivono senza di me Privi di me E non se ne danno Un pensiero Ma ne danno un pensiero Allora La pena La pena della privazione È la riparazione Eterna Universale Di una volontà umana Che vuole vivere Priva della divina È soltanto Una volontà umana Che non può fare A meno della divina E che si sente privata E che si sente privata della divina Può riparare A questo decidio Di vita divina Che la umana volontà commette Questa è la pena Della privazione Che ci ha guadagnato Il regno della divina volontà Quindi soltanto Se la conosci E posso Veramente Sapere cos'è Quella soluzione Perché tutti La conosci Ma questo sarà Che penso Per i dannati Certo Che loro E' 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 Pena di purgatori Ah no Più grande è il purgatorio E dice Pena di purgatorio E dice No Perché le anime Sanno che devono purificarsi E' Pena più grande è il purgatorio E poi dice No Non è più grande il purgatorio E' pena di inferno Poi dice No Non è più grande è l'inferno E' E questo lo dice Una progressione di volumi Dal 12 al 18 Dove lì inizia E ci sono una contra E dice Che è pena più grande È pena di inferno Perché I dannati Vogliono stare senza dirlo Lo odiano sanno che lui è Dio allora la pena dell'increazione è pena divina è pena che soltanto un Dio la può infliggere non è la chietà umana non è la santità umana e non è la santità umana è soltanto la conoscenza di un Dio è la percezione che il Dio è lontano da noi quando in realtà è lui che si ritira apparentemente per creare questo vuoto si nasconde ma senza di questa privazione lui non avrebbe potuto slanciarsi negli atti della divina volontà perché l'unico modo per lei per poter ritrovare Gesù era quello di andarlo a trovare negli atti della prevenzione e della santificazione e come dire quando si metteva il moto nel mare della divina volontà c'è una piccola barchetta quando inizia a muore la barchetta prendi un po' di venticello e l'unico venticello che le dà un po' di sollievo nella pena di bruciare la divina volontà è il fatto di muoversi se io mi muovo se mi sto ferma muoio se invece mi muovo mi comincio a dare di regni ecco comincio a avere questo piccolo soglierino e quindi il girare negli atti della divina volontà è l'unica cosa che ci può far vivere nella divina volontà questo vale anche per noi che noi sentiamo o no sensibilmente che è la pena di divina volontà così come per Luisa ritrovare Gesù e ritrovare la vita e la poteva fare soltanto girando negli atti della divina volontà così per noi girare negli atti della divina volontà non è soltanto utile è necessario per vivere la divina volontà altrimenti non troviamo questa vita perché non è soltanto utile padre e padre mi ammire vi ringrazio il Signore e con te con te e benedetta tra le donne e benedetta il mio Dio è tutto il suo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi i peccatori all'esterno e l'ora della nostra morte Amén. Gloria al Padre, al Padre e al Padre, al Padre e al Padre, all'Iso Santo Santo, come era la Vecifia, ora e sempre, nei secoli del secolo. Amén. sovrana regina vivendo nella divina volontà ti chiedo per me e per tutti la tua santa del Dio centra essa come ci resta rugiata sui peccatori e diventa sopra gli affitti e i consori sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene sulle anni ammuntanti e smossi da oro dalla tua benedizione materna si è pregno di eterna salvezza a tu altri anni nella divina volontà ma la santissima ci serve da ogni male le pronunci in noi di sua via regina del divino proiello prendimi sulle tue ginocchia materne e inserimi a vivere solo di volontà divina una settimana viaggio incluso dovevo andare ad un ritiro ad una conferenza che si trovava nell'area di Boston c'era stata lo scorso ottobre ah sì alla fine di ottobre e quindi c'era un sacerdote americano c'erano un centinaio di persone dell'area di Boston quindi nella zona nord orientale degli Stati Uniti anche altre persone dal Texas all'Ohio dalla California insomma varie persone un po' da tutti gli Stati Uniti poi si è collegato anche padre Bucci per via Skype ah con voi sì ma padre Bucci giù da dove è lui qui in Italia sì sì lui è a Trinitapoli sì 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 cioè non so adesso come si chiama la parrocchia però sì perché l'avevano spostato e perché era andato e Andrea adesso l'ha ricannato lì allora sì 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 diciamo sicuramente da un paio d'anni sicuro e poi ha avuto anche l'operazione insomma ha avuto delle cose di salute però l'ho visto benissimo insomma attraverso Skype sembrava stava sembrava stava bene insomma le persone negli Stati Uniti lo amano tantissimo perché a parte il fatto che lui ha un filo diretto avendo conosciuto direttamente Luisa le persone si commuovono sai cioè è la persona che è normale è comprensibile e poi e poi lui ha viaggiato tanto negli Stati Uniti ci è venuto tante volte ha viaggiato per tanti stati così allora le persone lo conoscono sono sempre contenti di sentirlo tu l'hai mai sentito l'hai mai conosciuto padre Bucci? no a lui no ma sai chi è? è chi è? è diciamo il nipote di zia Rosaria zia Rosaria la Rosaria la signora che si prendeva cura di Luisa no? ah ho capito sì 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 padre Bucci quando lui aveva dieci anni diciamo così per un periodo di sette anni da quando ne aveva tre a quando ne aveva tredici insomma così andava quasi ogni giorno a casa di Luisa e allora ovviamente sai sa tante aneddoti tante cose e poi adesso diciamo anche lui legge scritti eccetera per cui è andato ha viaggiato tanto negli Stati Uniti perché il vescovo Cassati quello precedente l'ha mandato lì per spiegare a chi diceva che non era magari una cosa della chiesa dice no vedete che della chiesa così portava una lettera ufficiale ha viaggiato in tanti gruppi e quindi molte persone le conoscono poi capito sapendo che lui conosceva Luisa ha conosciuto tante ha testimoniato anche tanti fenomeni tutte queste cose qui è chiaro che la gente diciamo così si commuove certo è certo e lui ha scritto due biografie ha scritto le biografie di Luisa conosce gli aneddoti eccetera e adesso mentre all'inizio era molto diciamo più prudente nel senso che diceva la vita di Luisa soltanto gli aneddoti adesso invece è più libero diciamo si sente più tranquillo e quindi anche via Skype eccetera parla molto dice Luisa è il capostifide del terzo Fiat creazione cioè proprio alla grande cioè proprio la butta lì senza proprio senza pietà e quindi le persone sono contente di sentire questo e quindi e quindi ovviamente prima poteva viaggiare adesso ha avuto l'operazione di cuore non so sta bene lo vedo bene insomma anche di Magritte eccetera però forse sai ha 80 anni eccetera non è più facile per lui andare in ricerca è un'ammazzata andare negli Stati Uniti per una settimana anche quando si collega via Skype con gli Stati Uniti diciamo le persone sono molto toccate perché lui di fatto l'ha toccata Luisa l'ha vista l'ha sentita cioè non è da poco è l'ultima persona rimasta di fatto che è un miracolo che è un miracolo vivente lui stesso diciamo e quindi fa molto effetto soprattutto per le persone che abitano in un altro continente sai Marina una volta hai te che gire speriamo che arrivi al Perù pure a parlare di questo della divina volontà ma lo sai che io quando sono andata in Perù sono andata nel 2009 in Perù con un gruppo diciamo di americano così loro non sono non conoscono diciamo anche se sono andati a una conferenza però la loro missione non è della divina volontà eccetera siamo andati lì a portare diciamo aiuti perché poi ci siamo andati nella zona di terremotata di come si chiama Curis Guaraz credo che era sì sì tante a Lima una parrocchia di Lima insomma a Lima tutti gli anni e c'era anche un sacerdote che parlava italiano perché aveva studiato un po' e io ovviamente sai ti porti qualche cosa quindi gli avevo dato qualche immaginetta gli avevo mi pare addirittura spedito qualcosa via email eccetera ma sicuramente ci sono dei gruppi in Perù ci sono in Colombia ci sono in Brasil ci sono in Rappertutto ci sono in Rappertutto ci sono in Rappertutto sicuramente sì perché io so che in Colombia io ho addirittura un fratello fratello di un mio amico colombiano che vive negli Stati Uniti lui Victor Manuel Calderon si chiama così loro fanno continuamente le ore della passione per 24 ore poi in Bici sono dei sacerdoti colombiani insomma tu addirittura c'è padre Pedro che lavora molto lì brava padre Pedro eccetera e quindi sicuramente ci devono essere anche in Perù e mio fratello adesso vive in Ecuador sì sì lui vive in Ecuador perché è sposato con una ragazza diciamo dell'Ecuador sono sposati lì e vivono lì a un'ora da Quito una ora di Quito sì 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 e il pueblo si chiama Maciaci Maciaci sta sulla montagna no stanno bene insomma così adesso stiamo pregando che possano diciamo avere un bambino se il Signore vuole e insomma ci stanno certo speriamo quindi questo padre del figlio dello Spirito Santo sorga la mia mente della volontà suprema per coprire tutte le intelligenze delle creature con la tua volontà affinché tutte sorgano in essa e io a nome di tutti ti do l'adorazione l'amore la sottomissione di tutte le intelligenze create Spirito Santo amore immacolato dei Padri e del Figlio tu che per un preciso morire hai il verbo nella madre incarnato vieni nel nostro cuore riempici del tuo divino amore tu sei amore sostanziale poiché sei assenza reale che ci conduce ad amare tu hai in te i tempi e i modi di Dio mostrali anche a noi e conducici a divenire come voi un unico amore ed un unico volere vi rendono persone une e trinitarie e la vostra essenza ci risvedono prorompi Spirito Santo amore prorompi dagli alti spazi e vieni a prendere sede nel nostro cuore manifesta a noi ogni ora la verità e rendici aperti a quanto via via ci disvelerai Spirito Santo amore uno ed onnipotente Signore donaci lo Spirito del Padre e confermaci nell'amore del Figlio tu che sei unità indissolubile di benitalia ed eccelsa meraviglia regale vieni qui sulla terra e riuniscici in uno stesso Spirito amore immolato amore donato divieni in noi amore donante per ognuno dei figli tuoi non ti domandiamo più i sette doni ma agoniamo in noi la tua presenza forte sigillata di puro amore vieni ed apri le tighe del nostro cuore perché tu possa da esso etasamente scatuire Spirito Santo amore donaci la tua stessa luce la tua stessa pace ed il tuo stesso vigore amore la regina del cielo è regina della divina volontà la maestra degli apostoli Maria Santissima c'era lasciata sotto la croce ma proprio lasciata in mezzo agli apostoli sede e centro della chiesa nascente la santissima barca di rifugio l'anima alla madre celeste siamo tutti noi insieme eccomi a te di nuovo sovrana del cielo mi sento verso te talmente tirata che numero di minuti aspettando quando la tua altezza suprema mi chiami per darmi le belle sorprese delle tue lezioni materne il tuo amore di madre mi capisce e il mio cuore gioisce nel sapere che tu mi ami e sento tutta la fiducia che la mamma mia mi darà tanto amore e tanta grazia da formare il dolce incatto alla mia volontà umana in modo che il volere divino stenderà i suoi mari di luce nell'anima mia e rimetterà il suggello del suo fiat in tutti gli atti miei leo mamma santa non mi lasciare più sola e fate scendere in me lo spirito santo affinché mi bruci ciò che alla divina volontà non appartiene e lezione della regina del cielo parola e palpito il cibo della divina volontà ora ascolta Luisa ora ascolta Luisa mia il nostro sommo bene Gesù è partito al cielo e sta in ansia a suo celeste padre a terorare per i suoi figli e fratelli lasciati sulla terra e la parte celeste guarda tutti e nessuno di nessuno e tanto il suo amore che lascia la sua mamma ancora sulla terra per conforto, aiuto ed ammestramento per compagnia dei suoi e miei figli ora devi sapere che come mio figlio partì al cielo io continuai a stare insieme con gli apostoli nel cenacolo aspettando lo Spirito Santo tutti stretti a media di intorno pregavano insieme o pregavamo insieme non facevamo nulla senza del mio consiglio e quando io prendevo la parola per istruirle e dire qualche anetodo del mio figlio che loro non conoscevano come per esempio le particolarità della sua nascita le sue lacrime infantile i suoi tratti amorosi gli incidenti successi nell'Egitto le tante meraviglia della vita nascosta in Nazareth o come erano attenti ad ascoltarmi e restavo e restavano rapidi nel sentire le tante sorprese e tanti insegnamenti che mi dava che dovevano servire per loro perché mio figlio poco o nulla parlò di sé stesso con gli apostoli riservando a me il compito di far loro conoscere quanto li aveva amati e le particolarità che solo la sua mamma conosceva sì che figlia mia io ero innesso ai miei apostoli più che il sole del giorno e qui l'ancora il timone la barca dove trovarono il rifugio per restarsene sicure e difese da ogni pericolo perciò posso dire che partorì la chiesa nascente sulle mie ginocchia materne e le mie braccia furono la barca nella quale la guidai a porto sicuro e la guido tuttora bene onde giunse il tempo che scese lo spirito santo promesso dal figlio mio nel cenacolo che trasformazione figlia mia come furono investiti acquistarono nuova scienza fortezza invincibile amore ardente una nuova vita scorreva in essi la quale li rendeva impavidi e coraggiosi in modo che si divisero in tutto il mondo per far conoscere la redenzione e mettervi la vita per il loro maestro ed io restai con l'amato Giovanni e fui costretta ad uscire da Gerusalemme perché incominciò la tempesta della persecuzione figlia mia carissima tu devi sapere che io continuo ancora il mio magistero nella chiesa non vi è cosa che da me non discende posso dire mi sviscero per amore dei figli miei e mi nutrisco col mio latte materno ora in questi tempi voglio mostrare un amore più speciale col far conoscere come tutta la mia vita fu formata nel regno della divina volontà perciò ti chiamo sulle mie ginocchia fra le mie braccia materne affinché facendoti da barca tu resti sicura di vivere nel mare della divina volontà grazie più grande non potrei farti e ti prego contenta la mamma tua vieni a vivere in questo regno sì santo e quando vedi che la tua volontà vorrebbe avere qualche atto di vita vieni a rifugianti nella sicura barca delle mie braccia dicendomi e lo diciamo insieme mamma mia la mia volontà mi vuole tradire e Dio la consegna a te affinché emetta al suo posto la mia volontà oh come sarò felice se potrò dire la fidia mia è tutta mia perché vive di volontà divina ed io farò scendere lo spirito santo nell'anima tua affinché tu bruci ciò che è umano e col suo soffio refrigerante imperi sopra di te e ti confermi nella divina volontà scendiamo insieme la mamma santissima maestra divina oggi la tua piccola figlia si sente il cuore gonfio da scopparmi in pianto e bagnare con le mie lacrime le tue mani materne un vero di vestizia mi invade e temo che non farò profitto dei tanti tuoi insegnamenti e delle tante tue più che materne premure mamma mia mamma mia aiutami fortifica la mia debolezza metti in fuga i miei timori ed io abbandonandoti nelle tue braccia sarò certa di vivere tutta di volontà in indirina in indirina in indirina quella mia c'era da aggiungere qualcosa o meglio di fermarci da fermarci su ciò che ci ha insegnato la mamma santissima sì no io ad aggiungere la mamma santissima no ovviamente ma su fermarci sì no pensavo no mi veniva da da riflettere quando la madre dice Gesù era partito promettendoci lo spirito santo e c'è una costante no che sembra che per avere lo spirito santo Gesù deve andare via no allora come nel Vangelo cercavo di capire no questa cosa o meglio di riflettere quando Gesù dice io devo andare perché vi devo mandare il paraclito allora Gesù dice come la necessità io devo andare Gesù chi è? Gesù è la rivelazione del padre però è lo spirito santo che ci fa incarnare Gesù Gesù è la rivelazione del padre ma come noi possiamo ricevere l'opera di Gesù lo spirito santo è la santificazione quindi per poter ricevere in noi Gesù dobbiamo ricevere lo spirito santo allora mi veniva in mente quello che fa Gesù con Luisa allora così come nel regno della redenzione Gesù viene si fa conoscere si fa toccare mangia insieme agli apostoli parla con loro vive con loro per tre anni però poi affinché acquisiscano il vero carattere di apostoli Gesù deve andare via e la madre stessa santissima dice che trasformazione figlia mia da lattanti della spiritualità vengono trasformati e raggiungono e ricevono questa nuova scienza fortezza invincibile amore ardente che trasformazione figlia mia questo avviene nel regno della redenzione mi viene quasi da fare un parallelo con gli scritti di Luisa nel regno della santificazione allora per la santificazione prima noi conosciamo Gesù Gesù si fa conoscere il primo contatto con Gesù a vedere questo uomo Dio crocifisso e quindi in croce e Luisa ha conosciuto Gesù tant'è vero che ci ha parlato non poteva più vivere senza di lui e ha ricevuto quasi le virtù di Gesù in modo vivente la signora obbedienza l'umiltà Gesù si è rispecchiato in lei e lei in Gesù quindi tutta la prima parte degli scritti di Luisa sono lo specchio divino e addirittura Gesù dice voglio adesso che tu entri nella mia umanità e fonditi nella mia umanità addirittura Gesù e Luisa si identifica addirittura Luisa una volta si trova che ha le sembianze di Gesù e dice no no per carità questo non può essere io uguale a Gesù e Gesù dice no così deve essere poi quando Gesù vuole completare espandere l'opera del regno della divina volontà in Luisa Gesù si deve eclissare quasi deve partire da Luisa non che Gesù va via come pure Gesù dice agli apostoli io sto sempre in mezzo a voi non vi abbandono mai quando uno due siete riuniti mio nome io sto con voi addirittura lui resta nella Santissima Eucaristia ma c'è questa parvenza quasi che al fine di ricevere lo spirito e i suoi frutti Gesù deve partire oppure con Luisa affinché Luisa possa andare in giro negli atti della divina volontà e girare nella divina volontà Gesù si deve eclissare infatti quando Luisa comincia a fare l'opera della santificazione vuol dire a formare il regno della divina volontà in lei e quindi cominciare a girare in tutti gli atti della creazione in tutti gli atti della redenzione in tutti gli atti della santificazione Luisa lo può fare solo perché Gesù si eclissa in lei se Gesù dice se io mi faccio vedere sempre da te tu saresti attaccato mani e piedi alla mia umanità e non ti slanciaresti a fare gli atti della mia divina volontà e allora così come Gesù parte dagli apostoli affinché lo spirito santo possa completare l'opera e li renda apostoli impavidi della redenzione così pure Gesù una volta che si è fatto conoscere da Luisa si deve nascondere da lei affinché Luisa per il desiderio di trovarlo sia slanciata negli atti della divina volontà e compie l'opera dello spirito santo ovvero il girare costantemente negli atti della divina volontà non so se questo ha senso vi sembra il parallelo tra l'opera di Gesù e dello spirito santo nell'opera della redenzione che si compie e diciamo si manifesta in modo pieno nell'opera della santificazione e quindi con Luisa quindi Luisa prima si fonde in Gesù e non può vivere senza di lui poi Gesù dice questo l'abbiamo letto anche nelle preghiere la divina volontà ha per centro l'umanità di Gesù e chi vive in essa vive in questo centro allora immaginiamoci la divina volontà come un sole grandissimo infuocato infinito luminosissimo il centro di questo sole è l'umanità di Gesù allora Luisa entra nella divina volontà e si attacca al centro sta con Gesù vuole stare sempre con lui adesso Gesù dice no io voglio che tu vai in giro per tutta la sfera del sole e possiedi e internalizzi e conosci tutte le molecole di luce che sono in questa sfera del sole e quindi voglio che ti slanci all'interno di essa per questo Gesù si ecclissa da Luisa come dire il centro del sole quindi Luisa vede soltanto luce e per poter ritrovare Gesù deve andare in giro in tutti gli atti della divina volontà e quindi questo per Luisa vuol dire anche pena della privazione e quindi l'eclissi di Gesù in Luisa per farla girare nel regno della divina volontà è la pena della privazione che in Luisa ha lo scopo di farla girare costantemente negli atti della divina volontà perché solo girando nella divina volontà lei può trovare la brezza che la rinfresca dalla pena atroce della privazione quindi Gesù ascende in cielo perché gli apostoli ricevano lo spirito santo Gesù si ecclissa da Luisa perché Luisa continua a fare i giri nella divina volontà e la pena della privazione che è l'eclissi dell'umanità di Gesù serve appunto per fecondare il regno della divina volontà non so se diciamo a senso questo parallelo e quindi alla fine l'opera dello spirito santo negli apostoli che è il fatto di rendere i veri apostoli del regno nuova scienza fortezza invincibile amore ardente in Luisa che la slancia nel fare i giri nella divina volontà è il frutto della pena e della privazione che è il regno della divina volontà è come il completamento è come prendere in noi tutta la sfera della divina volontà di cui Gesù è il centro quindi se stiamo nella divina volontà Gesù è sempre con noi però la divina volontà è molto più grande di Gesù Gesù sta nel centro Gesù è come il centro di questa sfera ma Gesù vuole che noi prendiamo tutta la divina volontà e quindi prendiamo tutta l'unità della divina volontà quindi come diceva un sacerdote l'altro giorno nell'Omelia che mi ha colpito molto il frutto fondamentale dello spirito santo è l'unità abbiamo i tanti frutti dello spirito santo i doni dello spirito santo la conoscenza l'intendimento la sapienza il consiglio la pietà la fortezza il santo timor di Dio ma lo spirito santo ha per frutto principale come Gesù dice non vi preoccupate lo spirito parlerà in voi vi ricorderà tutto quello che vi ho detto quindi lo spirito santo ha quella quella funzione di farci abbracciare tutto di stare uniti tra noi e di farci abbracciare tutto quello che Gesù vuole dare quindi ingerare nella divina volontà che vuol dire inglobare abbracciare tutto Dio tutte le opere di Dio è il frutto dell'opera della santificazione è l'opera dello spirito santo proprio per questo negli scritti di Luisa dice ma come non si parla tanto dello spirito santo sia soltanto un accenno quando si dice no Luisa devi andare fonderti anche nell'ordine della grazia e girare nell'opera dello spirito oppure quando nel volume 16 Luisa fa tutto il giro nei sacramenti e non si parla esplicitamente dello spirito santo perché tutti gli scritti della divina volontà ingirare negli atti della divina volontà sono proprio l'opera dello spirito santo quindi sono proprio quello è tutto spirito santo da tutti i volumi e quindi sono l'unità allora il frutto principale dello spirito santo è proprio quello di condurci nell'unità della luce e della divina volontà unità uguale come dice Luisa e Gesù negli scritti unità uguale tutto che cosa sai figlia mia che cosa vuol dire unità unità vuol dire tutto accentramento di tutte le opere di Dio creazione redenzione e santificazione quindi girare nella divina volontà quindi lasciare che lo spirito santo ci conduca in tutti gli atti della divina volontà vuol dire riconciliarli ricondurli dentro di noi in unità e quindi compiere il fiat volontà sua non so se questo ha senso grazie e metti subito infatti il morà la rompe la pensare con sempre l'unità hai fatto caso io sono pensato è parallelo mi dici tu l'unità l'altro medio la vuole rompere esatto sì esatto quindi il diavolo è colunque divide lo spirito che è colunque completa tutte le opere di Dio è colunque unisce e allora Gesù ci rivela il padre e la connessione tra la divinità e l'umanità e al fine di poterci di poter ricevere in noi tutto ciò che è Gesù abbiamo bisogno dello spirito del suo spirito e quindi è necessario che Gesù si ecclissi in noi affinché lo spirito ci riconduca a tutta quell'unità a tutte le opere di Gesù a tutta la divina volontà il frutto dello spirito sono i giri il frutto dello spirito è l'unità è il girare nella divina volontà 29 settembre 1931 volume 29 sto facendo il mio giro nella divina volontà per seguire i tanti suoi atti fatti per amore nostro e giunta nell'Eden mi sono fermata in quell'atto in cui Dio creava l'uomo che momenti solenni che foga d'amore sicché quell'atto si può chiamare un atto purissimo completo sostanzioso non mai interrotto d'amore divino quindi l'uomo fu formato ebbe principio nacque dell'amore del suo creatore era giusto che doveva crescere come impastato e alitato come una fiammella dal soffio di chi tanto l'amava riprendo il pensiero quindi l'uomo fu formato e nel principio nacque nell'amore del suo creatore era giusto che doveva crescere come impastato e alitato era giusto che doveva crescere come impastato e alitato come una fiammella dal soffio di chi tanto l'amava quindi lo spirito sa anche questo soffio ma mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù visitando la piccola anima mia mi ha detto la creazione dell'uomo non fu altro che uno sbocco del nostro amore ma tanto che l'uomo non lo potette ricevere tutto dentro di sé non avendo capacità di poter chiudere nel suo interno un atto di colui che riusciva alla luce onde il nostro atto rimaneva dentro e fuori di lui affinché gli potesse servire di alimento per poter crescere innanzi a colui che con tanto amore lo aveva creato e che tanto l'amava e siccome non fu il solo nostro amore che sboccò nel creare l'uomo ma tutte le nostre qualità divine quindi sboccò la potenza la bontà la sapienza la bellezza e così di sepito perciò il nostro amore non si contentò d'amarlo ma sboccando tutte le nostre qualità divine restava la mensa sempre preparata e a disposizione dell'uomo in modo che ogni qualvolta il volesse potesse venire a sedersi a questa mensa celeste per alimentarsi della nostra bontà potenza bellezza amore e sapienza e così crescere innanzi a noi con le nostre stesse qualità divine col modello della nostra somiglianza ed ogni qualvolta veniva la nostra presenza per prendere i nostri sorsi delle nostre qualità divine noi dovevamo cullarlo sulle nostre ginocchia per fargli prendere riposo e fargli digerire ciò che aveva preso affinché potesse di nuovo alimentarsi dei nostri sbocchi divini per formare la sua crescenza completa di bontà di potenza di santità di bellezza come il nostro amore lo desiderava e il nostro volere lo voleva noi quando facciamo un'opera è tanto il nostro amore che tutto diamo e prepariamo affinché nulla manchi alla nostra opera creatrice facciamo opere compiute non mai a metà e se qualche cosa pare che manchi è la parte della creatura che non prende tutto tutto ciò che noi abbiamo messo fuori per suo bene e per gloria nostra ci fermiamo qui un attimo quindi questa è la parte che parla della crescenza della creatura innanzi alla maestà divina dove dice che la creatura può sempre andare e usare prendere di più delle qualità divine e quindi crescere nella vita della divina volontà a me fa sempre condivido questo poi magari se qualcuno ha qualcosa da dire è bello sentire tutti non lo so mi riesce sempre mi semplificano il ragionamento pensare a cosa sia la volontà divina allora la volontà divina si può definire come la vita della santissima trinità ma diciamo la possiamo immaginare che cos'è diciamo se ce l'abbiamo qui davanti no come si presenta allora mi viene diciamo da scomporla in diversi elementi innanzitutto prendiamola come il contenitore la capacità quel contenitore infinito che contiene tutti gli atti di Dio ok le qualità di Dio gli atti di Dio la vita divina le opere di Dio tutto allora vediamola innanzitutto come il contenitore quindi so quindi già questo mi aiuta dice che puoi dire nella divina volontà mi aiuta vivere nella divina volontà mi aiuta quasi l'immaginazione per dire io devo entrare in un contenitore devo entrare in una stanza devo entrare in un ambiente è come quando io apro la porta entro in una stanza e quindi se io mi immagino che la stanza dove voi state è la volontà divina fai conto che questi muri sono soltanto sono infiniti i confini sono infiniti sono dei muri che si espandono all'infinito perché la volontà divina è infinita però voi state in questo contenitore ogni molecola di ossigeno perché ci sta l'aria là dentro in quella stanza ogni molecola di ossigeno e ce ne stanno trilioni e trilioni e trilioni e trilioni è un atto della divina volontà e quindi la divina volontà innanzitutto è la stanza che contiene tutti gli atti di PIR tutti eterni in eterno poi come inizia a dire questo passo su cui dice all'interno della mia divina volontà ovviamente la divina volontà ha le qualità le caratteristiche le proprietà di Dio quindi la divina volontà ha le stesse qualità di Dio stesso quindi potenza sapienza onnipotenza infinità onniveggenza eternità tutte le qualità divine allora mi viene da immaginare che in questa in questa stanza voglio dire ci sono tante qualità come fossero tante tante luci diverse tanti gioielli diversi il lapislazzolo piuttosto che l'ametista piuttosto che il topazio che sono tante qualità diverse tanti colori diversi che formano le qualità divine qua c'è la potenza qua c'è la mia che si possono combinare in tanti modi diversi che la potenza e la potenza insieme alla creatività Dio si mette a creare delle cose incredibili la giustizia insieme alla misericordia formano quell'equilibrio particolare piuttosto che la eternità insieme all'infinità fanno espandere questa stanza all'infinito allora quindi quelle sono le qualità quando le qualità quindi potenza sapienza infinità misericordia amore eccetera si muovono insieme formano il modo di operare divino il carattere divino il suo modo di operare quindi come dire le qualità divine messe insieme che si combinano insieme si muovono in un certo modo formano il modo di operare di Dio che è il suo carattere quando lui dice figlia mia il nostro modo di operare è questo quando noi facciamo operi universali le facciamo sempre ad un ad uno con una creatura quindi il modo in cui Dio opera dice ah la mia potenza si mette in moto la mia universalità si mette in moto le mie opere con la mia potenza le faccio universali le faccio ad un ad uno con la creatura e quindi lui si abbassa e quindi tutte queste qualità divine che stanno in questo contenitore divino si muovono e si combinano insieme e formano il modo di operare di Dio che è il suo carattere il suo temperamento il suo modo di operare quando il suo carattere il suo modo di operare si mette a produrre che cosa produce? produce atti produce atti e quindi la volontà di Dio abbiamo detto fino ad ora è il contenitore all'interno di questo contenitore ci sono le qualità divine la potenza la sapienza che sono come delle luci delle proprietà delle qualità che stanno quando queste proprietà queste gemme si mettono e si combinano insieme formano il modo di operare di Dio il modo di operare della sua persona per cui la sua potenza opera insieme alla sua onnipotenza la sua misericordia insieme alla sua giustizia è il modo in cui Dio opera il modo in cui Dio fa le sue opere è un Dio creato attivo un Dio fecondo un Dio che quando opera fa le opere in un certo modo e quando fa decide e non le cambia non è che Dio nella redenzione ha operato diverso rispetto alla creazione e nella santificazione si è messo ha operato in modo diverso no lui fa le opere in un certo modo e così agisce le fa sempre all'inizio le fa con una creatura e poi le fa conoscere a tutti quanti le opera sempre con la stessa combinazione delle sue qualità divine così come opera all'interno della santissima trinità con perfetta uguaglianza tra padre figlio e spirito santo allo stesso modo lui opera quando opera ad extra quindi quando queste qualità divine si mettono e si muovono insieme formano il modo di operare di Dio quando il modo di operare di Dio opera quindi il distillato il prodotto del suo modo di operare sono gli atti le famose molecole di ossigeno che stanno in quella stanza non sono tanti atti questo atto è l'incarnazione del verbo questo atto è il concepimento di Maria questo atto è l'istituzione dell'eucaristia questo atto è la creazione del sole ce l'avete tutti dentro basta che li respirate quante molecole di ossigeno state respirando e stanno tutti là sono trilioni trilioni e trilioni e trilioni perché questa stanza dove vi trovate non ha confini questi muri sembrano muri ma in realtà si espandonano in un filo non più non ha confini ecco quindi tutte queste trilioni di molecole di ossigeno che stanno in quella stanza che sono tutti gli atti della divina volontà li prendete tutti non è che di uno viene prima dell'altro no lì c'è l'istituzione dell'eucaristia lì c'è l'ordine la grazia l'ispirazione dello spirito santo lì c'è Gesù che agonizza nell'orto lì c'è Gesù che sta in braccio la sua mamma lì c'è Gesù le preghiere che Gesù volgeva al padre lì c'è le lacrime di Gesù lì c'è la creazione dei fiori di tutto tutto sta là dentro tutto si muove tutto si muove tutti questi atti insieme formano che cosa? già come noi la nostra vita umana è un atto continuo anche se noi dormiamo comunque continuiamo a respirare e quindi quindi anche se noi dormiamo non pensiamo comunque stiamo palpitiamo respiriamo il sangue circola quindi la successione continua dei nostri atti formano la nostra vita allo stesso modo e a maggior ragione la volontà di Dio tutti gli atti che formano la volontà di Dio costituiscono la vita di Dio la vita divina allora la divina volontà è tutte queste cose è il contenitore è le qualità divine che si muovono insieme e formano l'operare divino che producono gli atti divini che tutti insieme formano la vita divina e quindi è tutto insieme tutte queste cose il contenitore le qualità il motore il prodotto di questo motore quindi gli atti gli atti messi insieme formano la vita e quindi pensare quando quando Adamo sta nella divina volontà lui sta in questo contenitore infinito e sguazza in mezzo alle qualità divine e dice vieni Gesù vieni a prendere di più vieni a prendere di più e allora quindi lui può crescere sempre perché ricevendo sempre più queste qualità divine riceve sempre di più l'impronta la somiglianza di che cosa dell'operare divino e quindi può fare tanti atti nella divina volontà tanti atti formano che cosa la vita nella divina volontà e quindi questa è la crescenza la crescenza di Adamo e di ciascuno di noi una volta che entriamo in quella benedetta stanza dove state voi il vivere nella mia volontà è un dono che facciamo alla creatura dono grande che supra in valore in santità in bellezza in felicità tutti gli altri doni in modo infinito e inarrivabile quando facciamo questo dono si grande non facciamo altro che aprire le porte per farla posseditrice dei nostri possedimenti divini luogo dove non vi hanno vita le passioni i pericoli né nessun medico le può nuocere o farle del male questo dono conferma la creatura nel bene nell'amore nella stessa vita del suo creatore e il creatore resta confermato nella creatura quindi succede l'inseparabilità tra l'uno e l'altro con questo dono la creatura si sentirà cambiata la sorte da povera ricca da malata perfettamente guarita da infelice si sentirà che tutte le cose si cambiano per lei in felicità è questo che vogliamo dare alle creature la nostra volontà come dono perché guardandola e possedendola come cosa propria riuscirà facile a farle formare il suo regno questo dono fu dato all'uomo nell'Ede e in grato ce lo respinse ma noi non mutammo volontà lo teniamo a riserva e ciò che uno ci respinse con grazie più sorprendenti lo teniamo preparato per darlo agli altri però ci vogliono grandi preparazioni da parte delle creature conoscere il gran bene del dono per sospirarlo ma tempo verrà che la nostra volontà sarà posseduta come dono dalla creatura scusa Marina tu quando hai iniziato a parlare del contenitore si che io ancora non sapevo cosa volevi dire io ho pensato in primo momento di contenitore che contenitore siamo noi ascoltando quella cosa precedente che abbiamo letto perché dove spiega qui che Dio è entrato in noi ma visto che noi eravamo così piccoli che non potevamo contenerlo si è riversato anche fuori da noi allora io ho visto questa cosa come noi contenitore nel contenitore che noi conteniamo Dio ma siamo contenuti da Dio sì e fino a quando siamo nella sua volontà ogni nostro atto diventa infinito perché siamo in Lui quando ci separiamo da Lui in quel caso i nostri atti sono finiti perché sono al di fuori di Lui come se una separazione e il dono grande di Dio è che noi possiamo nutrirci sempre di Lui per crescere in Lui ma saremmo sempre contenuti da Lui sì è bellissimo questo che stai dicendo Margherita infatti c'è un passo del 33 dove dice nella divina volontà è Dio tempio dell'anima e l'anima tempio di Dio quindi noi contenitori nel contenitore la cosa bella però è che lo scopo quando Gesù dice a Lui si aggira nella divina volontà espandi non restringi espandi la tua volontà nella mia quindi quando dice quando questa è la divina volontà quando la piccola umana volontà entra nella divina è piccolissima però nel momento in cui inizia a girare si espande espande la propria capacità quando noi giriamo negli atti della divina volontà noi ce li mangiamo li conteniamo noi diventiamo i contenitori anche delle opere di Dio e di Dio stesso quindi che cosa succede come successe con Maria Santissima Maria Santissima quando venne assunta in cielo il cielo non lo poteva contenere perché in Maria Santissima vedevano Dio e tutte le opere di Dio quindi in girare costante nella divina volontà il vivere completo nella divina volontà fa in modo che l'anima pur essendo un nulla un piccolo si espanda e si identifichi con il contenitore quindi tu alla fine pur essendo un nulla ti vai a espandere e a coincidere con il tutto e quindi siamo contenuti da Dio nella sua divina volontà ma lo conteniamo quindi ci identifichiamo l'uno con l'altro tu entri piccola piccola con il tuo nulla ma proprio perché sei nulla ti puoi espandere e vai a coincidere con il tutto fai in modo che tu per esempio immagina che Gesù ti desse una pelle al tuo corpo stiamo parlando di corpo verso lato faccio un esempio strano stai in questa stanza la stanza è la divina volontà questa divina volontà contiene ovviamente Dio con tutti i suoi atti gli atti sono le molecole d'aria che stanno in quella stanza fai in conto che tu diventi talmente elastica che tu puoi in un solo respiro i tuoi polmoni si espandono e diventano grandi quanto i muri della stanza quindi tu riesci a mangiare a contenere dentro di te tutta l'aria che sta dentro quella stanza quindi tu ti identifica con quella stanza tutto ciò che è contenuto in quella stanza lo contieni tu e quindi in questo senso il contenitore e tu stessa vi identificate e quindi tu sei contenitore all'interno del contenitore così come hai detto all'inizio non so se questo è chiaro sì e poi c'è un'altra cosa che mi ha toccato tantissimo dal Vangelo come è stato rivelato alla Valtorta proprio nella prima pagina quando Gesù parlava di Maria diceva che lei nella sua piccolezza nella sua umiltà era così tanto annientata che riuscita a contenere l'incontenibile ecco bellissimo bellissimo esatto e questo è il vivere nella divina volontà contenere questo è il miracolo dei miracoli quando Gesù dice il vivere nella divina volontà che l'infinito si abbassi e si abbassa l'infinito l'onnipotente può fare quello che vuole si abbassa a diciamo a carezzare il nulla ma che il nulla riesce a contenere l'infinito questo è un miracolo che noi stessi siamo rapiti da questo stesso miracolo quando vediamo un nulla che contiene noi l'infinito questo è l'estasi di Dio nel vedere se stesso e la sua volontà contenuta nel nulla che lui stesso ha creato questo è il rapimento di Dio nei confronti di Maria Santissima questo è il rapimento di Dio nei confronti dell'anima che vive nella divina volontà miracolo infinito il nulla che contiene l'incontenibile c'è il meraviglio nella fusione si avverte questa cosa nella fusione la fusione sente questa immensità e si elenca ecco noi con la fusione entriamo come un nulla nella grandezza della divina volontà però con il girare negli atti noi ci espandiamo e iniziamo a contenerli perché se io questo è il bello se io dico soltanto questo è il salto tra il volume 12 e gli altri volumi in cui lui si comincia a girare se io resto attaccata all'umanità di Gesù e dico Gesù vieni tu a spazzare me vieni tu a fare diciamo a fare i miei piccoli non nulla in me Gesù viene e li fa ma Gesù dice io vengo figlia mia per me è facile adesso però voglio che tu venga in tutti i miei atti e quindi che tu li contenga che tu li possegga l'anima che vive nella divina volontà volume 16 deve racchiudere tutti gli atti fatti da essa altrimenti come può dire che vive nella divina volontà se non racchiude tutti gli atti come li possiamo racchiudere questi atti visitandoli mettendo il nostro ti amo possedendoli andandoli a visitare girando nella divina volontà la prima cosa che facciamo è il ti amo come in quel passo che viene citato nel libro che abbiamo visto prima Gesù ma mi sembra dire sta cantilena così iniziano i giri di Luisa ti amo nel sole ti amo nella luna ti amo nel mare come il ti amo una cantilena il ti amo è tutto il ti amo è amore è venerazione è eroismo è fiducia è sacrificio figlia mia nel ti amo io fui concepito e nel ti amo spirai l'ultimo respiro il ti amo è tutto e il ti amo dice Gesù ti dà il diritto di possesso se tu dici Gesù divina volontà ti amo nel sole la divina volontà si vede posseduta da questo ti amo e dice tu mi possiedi allora io se posseggo la divina volontà nel sole posso dire che un sole si forma in me e quindi il sole si viene racchiuso in me e quindi già vengo ad espandermi e a racchiudere un'opera di Dio il sole quindi questo lo faccio mettendo il mio piccolo ti amo e tanto dobbiamo andare in giro gli atti che da divina volontà tanto dobbiamo fare che li dobbiamo racchiudere tutti quindi il nostro nulla arriva a contenere l'incontenibile non in virtù della nostra bravura della nostra elasticità di quanto ci riusciamo a gonfiare ma soltanto in virtù del miracolo dei miracoli della divina volontà che vuole essere racchiusa e contenuta nel nulla della creatura perché questo è quello che fa morire Dio di gioia di gloria e di amore il ti amo è tutto lo leggo l'ho visto la pagina 11 dal volume 17 dopo un momento di riflessione ma che fa e che serve questa cantilena allora intervenne Gesù tutto preguroso e dice che cosa dici figlia mia il ti amo è tutto il ti amo è amore è venerazione è stima è eroismo è sacrificio è fiducia verso colui al quale è diretto il ti amo è tutto anche se noi non sappiamo dire nient'altro dice Gesù ti amo nella tua volontà il ti amo è tutto appello del redivino nel regno della divina volontà cari ed amati figli miei vengo in mezzo a voi col cuore affogato nelle mie fiamme d'amore vengo come padre in mezzo ai figli che amo assai ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per fare vita insieme e vivere con una sola volontà con un solo amore vengo col corteggio delle mie pene del mio sangue delle mie opere e della mia stessa morte guardatemi ogni goccia del mio sangue ogni pena tutte le mie opere i miei passi fanno gara che voglio darvi la mia divina volontà fin la mia morte vuol darvi il risorgimento della vita emessa nella mia umanità tutto vi ho preparato e impetrato grazie aiuti luce forza per ricevere un dono si grande da parte mia tutto ho fatto ora aspetto la parte vostra chi in grado non vorrà ricevere me e il dono che gli porto sappiate che è tanto il mio amore che metterò da parte la vostra vita passata le stesse vostre colpe tutti i vostri mali li seppellirò nel mare del mio amore affinché siano tutti bruciati e incomincieremo insieme la novella vita tutta di volontà mia chi avrà cuore di farmi un rifiuto e di mettermi alla porta senza accettare la mia visita tutta paterna e se mi accetterete io rimarrò con voi come padre in mezzo ai figli miei ma dobbiamo stare con sommo accordo e vivere con una sola volontà oh quanto lo sospiro gemo e deliro e giungo fino a piangere che voglio che i miei cari figli stiano insieme con me e vivano della mia stessa volontà sono circa seimila anni di lunghi sostiri e di lacrime amare della mia santa umanità che reclamo e voglio i miei figli intorno a me per rendarvi felici e santi giungo a chiamarli piangendo chissà se si muovono a compassione delle mie lacrime del mio amore che giunge fino a soffocarmi a farmi spasimare e tra i singhiozzi e gli spasimi voi ripetendo figli miei figli miei dove siete perché non venite al padre vostro perché andate lontani da me raminghi poveri pieni di tutte le miserie i vostri mali sono ferite al mio cuore sono già stanco di aspettarvi e già che non venite non potendo più contenere il mio amore che mi brucia vengo io a cercarvi e vi porto il gran dono della mia volontà devi vi prego vi supplico vi scongiuro ascoltatemi muovetevi a compassione delle mie lacrime dei miei sospiri avventi e non solo vengo come padre ma vengo come maestro in mezzo al discepoli ma voglio essere ascoltato vi insegnerò cose sorprendenti lezioni di cielo le quali vi porteranno luce che mai si spegne amore che sempre arde le mie lezioni vi daranno forza divina coraggio intrepido santità che sempre cresce vi straderanno la via ad ogni passo saranno le conducente alla patria celeste vengo come re in mezzo ai popoli ma non per esigere imposte e tributi no no vengo che voglio la vostra volontà le vostre miserie le vostre debolezze tutti i vostri mali la mia sovranità è proprio questa voglio tutto ciò che vi rende infelici inquieti tormentati per nasconderlo e bruciarlo tutto col mio amore e dare benefico pacifico magnanimo qual sono ricambiarvi con la mia volontà col mio amore più tenero con le mie ricchezze e felicità con la pace e gioia più pura se vi darete la vostra volontà tutto è fatto vi renderete felici e sarete felici non altro sospiro che la mia volontà regni in mezzo a voi il cielo e la terra vi sorrideranno la mia mamma celeste vi farà da madre e da regina già essa conoscendo il gran bene che vi riporterà il regno del mio volere per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere ed amandovi da avere i suoi figli va girando in mezzo ai popoli nelle nazioni per disporli e prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo in terra e da lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime i popoli per ricevere un dono si grande perciò ascoltatemi e vi prego figli miei di leggere con attenzione queste pagine che vi metto sott'occhio e sentirete il bisogno di vivere della mia volontà io mi metterò vicino quando leggerete vi toccherò la mente il cuore affinché comprendiate e risolviate di voler il dono del mio fiat divino non so se qualcuno di voi l'ha visto vuole condividere qualcosa mentre leggevi l'appeto mi è venuta in mente dato che adesso comincia anche l'avvento e dalle parole di Gesù mi ricordavano il suo desiderio di compagnia di voler operare di voler essere libero di operare quasi il suo atteggiamento da mendicante che ce lo vuole dare la sua agonia che vuole venire a regnare come maestro come padre come re mi ricorda proprio l'attitudine di Gesù e le sue stesse parole nei nove eccessi nell'incarnazione quindi veo questo appello come il parallelo così come prima dell'incarnazione che porta la redenzione e la salvezza c'è un'agonia un'agonia del verbo incarnato di Gesù con questi eccessi d'amore che è l'amore trinitario l'amore costretto l'amore che vuole divorare l'amore che vuole operare l'amore che vuole la compagnia l'amore che sente imprigionato l'amore che non è corrisposto l'amore che è mendicante e addirittura quello agonizzante addirittura Gesù pensiamo prima di nascere l'ultimo eccesso d'amore che ci dà prima di nascere è la sua agonia così pure prima di morire sulla croce dove lui partorisce finalmente la redenzione agonizza allo stesso modo prima di dare il regno della divina volontà agonizza di nuovo è la bellezza del modo di operare di Dio e si vede in un certo si vede proprio il suo amore materno perché l'amore materno è l'amore che ha questa vita dentro e si sente morire se non la dà e quindi l'amore materno è amore divino è nascosto nell'amore paterno perché l'amore paterno che è quello di Dio padre per definizione è quello che domina che istruisce che provvede però le caratteristiche dell'amore materno all'interno dell'amore paterno restano per definizione sono nascoste per questo lui per farcele conoscere le ha messe in Maria Santissima ma in Gesù prima che si incarne prima che muoia sulla croce dove addirittura parla delle sue ferite come i seni le mammelle a cui ci dobbiamo attattare e prima che vuol dare il regno della divina volontà manifesta proprio nelle parole e nei fatti proprio l'agonia di quest'amore materno che vuole partorire e se non lo fa agonizza e vuole alimentare il suo parto con se stesso infatti dice vengo come re come padre non per darvi i tributi per darvi i compitini o per darvi qualcosa ma per darvi per alimentarvi con la mia stessa vita e quindi mentre lo leggevi mi sentivo proprio di adorare il verbo incarnato nei suoi eccessi d'amore nella sua agonia prima di incarnarsi prima di ispirare l'ultimo respiro è prima di partorirci il regno della divina povera i tre parti di Gesù difatti il regno del fiat sta tutto preparato nell'umanità santissima di Gesù gruma 24 30 agosto del 28 il regno del fiat sta tutto preparato nell'umanità santissima di Gesù solo che ci vogliono quelli che lo abitano l'inguaggio che Gesù tenne nella redenzione e quello che tiene per il regno della divina volontà sono differenti l'uno dall'altro figlia mia il regno della mia volontà sta tutto preparato nella mia umanità e io sono pronto a metterlo fuori per darlo alle creature si può dire che ho formato le fondamenta ho innalzato le fabbriche le stanze sono innumerevoli e tutte arrobate illuminate non di piccole luci ma di tanti soli per quante verità ho manifestato sul mio fiat divino non ci vuole altro che quelli che lo abitano ci sarà luogo e stanza per tutti perché è vasto più di tutto il mondo col regno della mia volontà tutto sarà rinnovato nella creazione le cose si metteranno al loro stato primiero perciò è necessario e succederanno perciò è necessario e succederanno molti fagelli per fare che la divina volontà si mette in equilibrio con tutti i miei attributi affinché equilibrandosi lasci il regno del mio volere nella sua pace e felicità quindi non vi meravigliate se ad un tanto bene che sto preparando e che voglio dare precedono molti fagelli è la mia giustizia che reclama ma i suoi diritti affinché equilibrata si mette in pace con le creature senza dare loro più molestia molto più che i figli del regno del mio fio divino non più lo offenderanno e la mia giustizia divina si cambierà per loro tutta in amore e misericordia figlia mia il mio linguaggio fu ben differente nella redenzione da quello che ho tenuto per il regno della mia divina volontà perché nella redenzione il mio linguaggio doveva adattarsi a persone incapaci deboli malati sordi muti ciechi e molti sull'orlo della tomba quindi per parlare me ne servì di parabole e similitudini del passo mondo che loro spessi potevano toccare con mano perciò ora parlavo loro da medico e porgevo loro le medicine per guarirli ora da padre che aspettavo il loro ritorno ancorché fossero figli discoli or da pastore che andavo in cerca della pecorella sbavita or da giudice che non potendo attirarli per via d'amore cercavo di attirarle almeno con le minacce o col timore e tante altre similitudini questo mio linguaggio dice che coloro a cui parlavo non mi conoscevano non mi amavano molto meno facevano la mia volontà anzi erano lontano da me e che io con le mie parabole facevo le ricerche e stendevo la rete per pescarli e dare ciascuno il rimedio per guarirli ma quante me ne sfuggivano ed io aumentavo le ricerche e gli insegnamenti per dare luce a tanti ciechi affinché uscissero dalla loro ostinata cecità ora vedi com'è differente il linguaggio che ho tenuto nel manifestare le verità sulla mia divina volontà che devono servire per i figli del regno di essa il mio linguaggio sul fiat è stato come un padre in mezzo ai suoi cari amati figli tutti sani e che possedendo ciascuno la mia stessa vita in loro in virtù del mio volere saranno capaci di intendere le mie azioni più alte le mie lezioni più alte e perciò sono passato più oltre mettendo loro avanti le belle similitudini del sole delle sfere del cielo dello stesso modo di operare divino che si estende fino all'infinito perché tenendo in loro il mio fiat divino terranno in loro colui che ha creato il cielo le sfere il sole darà loro virtù di far copiare in essi tutto ciò che ha creato ed i suoi stessi modi che tiene nel suo operare divino questi saranno i copiatori del loro creatore ed io perciò sono stato così lungo nel manifestare le verità sul mio fiat ciò che non feci nella redenzione perché erano parabole che contenevano modi umani finiti quindi non potevo non tenevo tanta materia di potermi dilungare tanto invece le similitudini che riguardano la mia volontà sono di modi divini e quindi c'è tanta materia da dire che si rendono inesauribili chi può misurare la vastità della luce del sole e l'intensità del suo calore nessuno chi mai può dare un termine al cielo e alle molteplici mie opere divine oh se tu sapessi quanta sapienza amore grazia luce ho messo nel manifestare le mie verità sul mio fiat divino tu resteresti affogata di gioia da non poter più vivere ed ameresti che il lavoro del tuo Gesù fosse conosciuto per fare che un lavoro sia esuberante che costa prezzo incalcolabile abbia la sua gloria e comunichi i suoi benefici effetti alle altre creature mi è venuto il pensiero poi magari quando Gesù dice dopo che la terra dice anche qui mi ricordo il punto i flagelli la necessità dei flagelli prima che io ve lo dice per questo passo adesso si si pensa molto a questa cosa e si parla anche molto e c'è un po' la tendenza a vedere l'aspetto dei flagelli come una questione esterna allora dice cos'è il flagello il flagello sarà il terrorismo islamico il flagello è la postasi nella chiesa allora giù con il sinodo giù con il papa giù con questo giù con quest'altro è come se i flagelli fossero qualcosa di esterno no il regno della divina volontà è un regno interiore quindi nel regno nella costruzione del regno della divina volontà ognuno di noi segue e deve passare attraverso una purificazione e necessariamente passare attraverso un giusto flagello seconda delle nostre disposizioni delle nostre necessità Gesù dice nel volume semplice quando si sta dentro la sfera della divina volontà bisogna guardare dentro guardare dentro e abbiamo letto nella fusione in Gesù che prendeva spunto da quel passo c'era anche la noticina del volume 18 primo ottobre del 25 chi vive nella divina volontà vive nell'umanità di Gesù perché Gesù è il centro della divina e quindi guardare verso il centro vuol dire stare fusi dentro Gesù siccome noi però nel palazzo nella sfera della divina siamo abituati ai nostri modi umani dice un altro passo ci siamo sempre abituati a guardare fuori alla finestra fuori al balcone vediamo qui cosa c'è e dice prima o poi senza che manco se ne accorge l'anima si troverà fuori perché è talmente abituata alle cose di fuori all'odore di fuori a quello che succede fuori che non cammina in punta di piede all'interno del palazzo per vedere quando viene fuori il re che le dà due donne anziché guardare all'interno si mette a guardare fuori senza che se ne accorge come una sunnambola si trova fuori al portone ed è fuori ad innavolo c'è quindi questo rischio che per me per l'anima per l'anima il flagello non sia tanto il fatto di dire guarda il flagello il fatto medesimo che l'anima si mette a guardare fuori e pensa che il flagello sia quello che dice o non dice il santo padre o quello che succede questo è il suo flagello perché la distrae le dà la cecità e ci sono tante anime che vogliono vivere nella divina volontà che passano la maggior parte del loro tempo a parlare del di fuori a giudicare a definire cosa sono i flagelli a dire quello che si sta facendo quello che non si sta facendo nella chiesa quello che si dovrebbe fare questo costituisce il proprio flagello perché è una colossale distrazione una colossale tentazione una colossale perdita di tempo e ci dà la cecità quindi è chiaro che uno vede però è quello che noi possiamo fare nel regno della divina volontà è fare a è fonderci in Gesù e voglio dire farci purificare però voglio dire la misura in cui guardiamo fuori e non guardiamo dentro ci flagelliamo quando in realtà stiamo pensando ai flagelli altrui mentre in realtà ci stiamo flagellando noi stessi con farci coinvolgere in cose che ci distraggono dalle verità non so se mi sono spiegato io lo dico a me stessa ma non so se ha senso e quindi il fatto di guardare soprattutto adesso quando Luisa dice in queste situazioni mi pare di aver letto Luisa che dice certe volte non si deve far altro che chiudere gli occhi e lo re dice uno deve chiudere oppure quando ad esempio stavo leggendo il volume 28 il periodo della condanna delle calunnie anziché guardare fuori mettersi a guardare quello che ha detto lì quello che ha fatto lì lei si sprofonda dentro è lì che trova la pace questo non vuol dire che non gliene importi no per carità ma è lì che ripara è lì che trova le riparazioni di Gesù è lì che trova la carità per conquistare i fratelli per pregare per il mondo e non è guardando giudica perché Gesù dice no è il volume 2 non è il volume 32 guardare pensare e giudicare è la stessa cosa allora focalizzarsi farsi rapire diventare quasi sordomuti a tutto ciò che non è linguaggio di volontà di vita verità di volontà di vita operare nella volontà di vita è interiore che non è disposta a condividere lo spazio e il linguaggio con altre cose un'altra cosa che mi colpiva questo regno sempre Gesù parla di costruzione e la costruzione la si vede parla degli scritti e sia nell'anima nostra come nella struttura degli scritti addirittura anche nell'asto questo ne abbiamo già parlato ma lui per costruire prima si fanno le fondamenti la purificazione i primi dieci volumi poi si raccolgono i materiali tante verità nuove nei primi diciannove ci sono tanti passi che parlano di argomenti nuovi i primi passi sull'immacolato con chi i primi passi di come opera la divina volontà nell'umanità di Gesù i primi passi di come opera la divina volontà nella creazione i primi diciannove volumi sono un abbombardamento di novità e poi dal volume 20 e quindi dice Gesù dal volume 20 raccolgo i materiali perché ho bisogno di materiali questo lo dice Gennaro del Benzetti verso la fine è il volume 20 poi che cosa fa? inizia a ripetere le lezioni dice ma io questo l'ho già sentito però lo dice in modo diverso quindi li assembla li costruisce però costruisce con i mattoni con i materiali quindi con le singole unità di verità lui aveva già raccolte li mette insieme li combina e questo lo fa fino al volume 25 però lo fa anche nell'anima nostra prima le fondamente ci scava eccetera poi ci riempie di nuove verità poi ce le mette insieme ordinate nella memoria nella mente e poi inizia a decorare dal 25 in poi lui ritorna sulle stesse verità e i passi sono come sono delle cascate diventano lunghi anche uno stesso periodo sono 5 10 6 righe le virgole cominciano a diminuire i punte virgole cominciano a sparire non ce la fa più e quindi inizia a decorare mi sembra quasi questi mitici artisti greci come Pidia queste cose qua che ho letto ma non immagino manco che sembrano quasi delle deità che decorano con questo talento divino quasi e alla fine viene fuori questa non il pattenone ma qualcosa di molto più bello di più glodioso dove le verità sono stampate sono impresse a caratteri d'oro e di luce sulle mura della Gerusalemme e quindi questa è la struttura degli scritti è la struttura della Gerusalemme celeste e anche la struttura che Gesù vuole formare nella mia verità cascate di luce no? abitua l'anima queste cascate di luce perché poi nella vita eterna sarà quello il lavoro dell'anima di Guida come di Luisa no? di prendere assorbire queste verità e poi darle ai fratelli questo è il compito di Luisa prende anche i nostri atti e li porta davanti al frono dell'Eterno quindi questo ha voluto Gesù come compito finché non ci sarà il numero sufficiente di atti per dare il soreno perché l'ha chiesto è richiesto con la sua volontà e non con la nostra con la sua volontà deve riempire il vuoto precedente tanto è bellissimo questa cosa il regno dice Gesù leggeo proprio soltanto dentro la divina volontà si ha il diritto di chiedere il regno della divina se io mi metto a chiedere il regno della divina volontà però lo chiedo leggendo i giornali guardando e dico ah signore che guai ma venga il tuo regno no ah questo regno che dico guarda che stanno combinando ma venga questo regno che ci mette tutti a me li mette a posto no lì io non ho né diritto di né ci sto dentro e né ho il diritto e né ho l'efficacia di chiederlo per l'altro e quindi bisogna sprofondarsi dentro e acquistare le proprietà del mare di nostra madre santissima facevo come il mare e fuori non si vede niente e dentro c'era mormorio continuo di preghiera di preparazione profondità di sapienza di conoscenza pace e anche giustizia nel senso che anche se le tormente stanno fuori può darsi che sopra la superficie del mare ci sta una tempesta uno va a 30 metri zero come se niente si immergono un attimino dentro fuori sembra che il Titanic sta affondando vai giù non si sente infatti Luisa ha vissuto durante due guerre mondiali però lei faceva solo atti di realtà che davano dolore a Dio e di riparazione per i fratelli interrava questa luce a tutti i fratelli non stava a sviscare o a vedere le cose politiche dell'epoca o militare neanche la stessa chiesa non è giudicata ha sempre dato questa luce quanto è importante questo male immenso volume 25 primo gennaio del 29 decisione da parte di Dio e aspetta la decisione da parte delle creature che accolgono il regno della divina volontà sulla terra e la facciano regnare volume 25 primo gennaio 1929 figlia da che fui concepito e dai primi giorni del mio nascere io mi occupavo del regno della mia divina volontà e come metterlo in salvo in mezzo alle creature erano questi i miei sospiri le mie lacrime i miei singhiozzi ripetuti le mie pene dirette tutto per ristabilire il regno del mio fio sulla terra perché sapevo che per quanti beni avrei dato l'uomo non sarebbe stato mai felice ne avrebbe posseduto pienezza di bene di santità ne con la divisa della sua creazione che lo costituisce re e dominatore è sempre l'uomo servo debole miserabile invece con la mia volontà e col farlo regnare in mezzo a loro gli avrei dato in un suo colpo di fortuna tutti i beni la sua regia e il suo dominio perduto sono passati circa venti secoli e non ho smesso i miei sospiri durano ancora e se tante conoscenze della mia divina volontà che ho manifestato non sono altro che le mie lacrime parlanti e carattere incancellabile delle mie pene e sospiri che formandosi parole si manifestano a te per farti vergare sulla carta coi modi più tenere e convincenti ciò che riguarda il mio volere divino e come vuole regnare come in cielo così in terra quindi la nostra parte divina ha deciso con decreti incancellabili e remodibili che la nostra divina volontà venga a regnare sulla terra e non c'è chi ci sposta e come segno di ciò abbiamo spedito dal cielo l'esercito delle sue conoscenze se ciò non fosse non valeva la pena di mettere a repentaglio i tanti valori di una volontà divina come per tanti secoli sono stati nascosti all'uomo così potevano continuare ora aspettiamo la parte delle creature che temporeggiano ancora a decidersi specie quelli che temporeggiano di occuparsi di far conoscere i segreti del mio volere divino e il gran bene delle sue conoscenze volontà umana quanto mi sei ingrata aspetto la tua decisione per darti il bacio e il regno che ti ho preparato e tu temporeggia ancora figlia mia prega e da parte tua non mettere nessun ostacolo ad uno tanto bene che sarà lo sfoggio più grande del nostro amore sì infatti Guisa no prima di vergare sulla carta tutte queste verità non c'essere ha vissuto ha voluto prima imprimere vedere dell'anima e poi ha potuto riferire sulla carta la sorpresa che è il valore di questa sorpresa che si immerge come diceva lì nel questo questo lo va in me per questo Luisa si distingue da tutti gli altri non è semplicemente una che dà dei messaggi ma Luisa è l'opera del terzo è il prototipo dell'anima che vive nella divina quindi lei stessa è il prototipo della celeste di Gerusalemme lei è l'anima di prima fattura la prima sedia dice poi vuole le copie e vuole poi le copie la prima si fa a mano e a tu per tu nell'officina reale e poi una volta fatta la prima le altre si fanno con più facilità basta che si decida a farsi fare c'è un'altra quando parla delle conoscenze nel corso degli scritti giusto come spunto perché di spunti ce ne sono tanti qui nel 20 per esempio dice le conoscenze sono l'esercito in un altro punto parla delle conoscenze come le lettere d'amore in un altro punto sono le conoscenze come i messaggeri qui sono l'esercito l'esercito e le armi dell'esercito sono i nostri atti mi piace questa questa verità dove in realtà c'è questo esercito dove in realtà l'esercito è forte però bisogna armarlo l'arma è l'atto della creatura che utilizza il soldato della conoscenza per moltiplicare la sua potenza con l'arma e questo lo si fa ricevendo la conoscenza e trasformandola in atto in questo attualizzare la conoscenza ricevuta si mette la lancia in mano al soldativo si fa scoccare la freccia che si può moltiplicare e poi anche l'altra verità che abbiamo sentito è quella del tempo reggiare purtroppo cioè il tempo reggiare da parte nostra perché le verità non vogliono tempo reggiare però siamo diciamo sono le creature che tempo reggiano ad occuparsi a interessarsi e a conoscere e a far conoscere e se guardiamo la storia di questi primi non lo so questa pre-storia del regno della divina volontà andiamoci come sono soltanto 25 anni che gli scritti più o meno stanno fuori non so forse di più però di fatto gli archivi li hanno aperti nel 94 quando stanno i primi 19 erano già in giro dagli anni 70 le copie fatte dalle suore del divino stelo o quello che sia siamo veramente nell'era della clava del regno della divina volontà eppure non sanno neanche chi è più carina questo è il problema eh sì quindi sa quanto quanto ancora però la propulsione proprio dipende da questo regno perché Gesù dice che gli atti fatti nella divina volontà e anche le prime creature sono il lievito il lievito attraverso il quale poi questo si molti e quindi basta un interessamento in più un atto in più e chissà quale effetto propulsivo questo produce a beneficio di milioni di creature e anche nel tempo e nello spazio per le generazioni il tempo è chiaro è interessante vedere queste dinamiche da una parte la chiesa con il suo emozio la sua prudenza il suo andare piano diciamo storicamente piano soltanto apparente perché lo spirito santo opera con il tutto dall'altro canto invece è Gesù che spinge spinge dell'underground le creature e quindi la chiesa madre da una parte che abbraccia che accarezza e che da una parte spinge e da una parte protegge e poi ci sono invece questi messaccheri questi soldatini imprudenti che stanno dentro la chiesa è un'armonia bellissima perché è il modo di operare divino dove magari le autorità della chiesa parlano con il linguaggio della chiesa che deve proteggere e d'altra parte però non dicono perché vogliono è bellissimo per esempio non sono stata nella filippina come si fa e per la prima volta perché i vescovi delle filippine avevano invitato personalmente il vescovo bicchieri ad andare lui non poteva andare perché aveva delle ordinazioni sacerdotali da fare a settembre ha mandato Don Sergio Pellegrini che è un assistente entusiastico quello che sia della causa di benificazione dell'associazione però è andato ufficialmente è stata la prima volta che Corato diciamo come chiesa è andata fuori ufficialmente in un'altra comunità di piccoli figli della divina rottà non in Belgio neanche in Inghilterra ma nelle filippine voglio dire è un'immersione in una cultura diversa completamente diversa in un linguaggio diverso e c'erano lì per esempio Michele Colonna dell'associazione Don Sergio con gli occhi sgarrati aperti nel senso perché è una cultura completamente diversa eppure dice mamma mia siamo così lontani nella lingua nel cibo nel senso dell'umorismo nella cultura nel modo di vestire nel modo di portare nel modo di parlare eppure abbiamo tutto in comune il linguaggio della divina volontà è stata un'esperienza favolosa per dire loro guarda Don Sergio diceva prima di prendere l'aereo la mattina sono andata alla tomba di Luisa allora vieni con me Luisa lui lo predicava detto questo vieni con me Luisa aiutami portiamo il regno della divina volontà sono venuto qua e ho sentito la risata di Luisa diceva Luisa lo ha detto con una con una semplicità con un'umiltà ho sentito la risata di Luisa che mi diceva Don Sergio io ti aspettavo ti aspettavo qui ti aspettavo con questi fratellini che è stata una festa continua e lui diceva no e allora ha visto qui migliaia di persone seminaristi seminari no della giunta che abbiamo fatto non so due ore con il camion per andare in queste zone con la pioggia torrenziale poi questi seminari no altro che che non lo so banchi eccetera seduti per terra i seminaristi i gazebo con le piogge tropicali con le scine e così no e si fa questi conoscevano Luisa no con i libri di Luisa dice Luisa e per un sergio così con gli occhi e addirittura i grilli hanno fatto una festa una festa hanno fatto un concerto cric 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 poi si sono fermati ma bellissimo e allora lui diceva e vedi si pensava no tutta questa cosa del non pubblicare attenzione più scritti le traduzioni dico ma questi qui a 10.000 20.000 chilometri 40.000 chilometri ma come hanno fatto a conoscere gli scritti con l'infusione con la scienza infusa con il raggio del sole o perché qualcuno gli ha passato con internet o qualcuno ha tradotto qualcuno gli ha detto qualcuno ha sgattaiolato qualcuno ha fatto e allora dico come si muove bene no la chiesa allora anche l'autorità dice figli miei che bello e allora padre Sergio diceva gli scritti si possono si devono leggere si devono far passare si devono copiare la moratoria non è mai esistita quello che in realtà non non si deve fare è appunto dire questa è una pubblicazione ufficiale questo è quello che di no però le pubblicazioni diciamo quelle amatoriali quelle che passano attraverso la copisteria quelle che passano attraverso il ciclo stile se ancora esistesse è chiaro che questi sono messi e quindi chi ancora addirittura aveva i dubbi tra i piccoli figli diceva ma possiamo ma possiamo dare i volumi adesso addirittura Picchieri tramite Don Sergio è passato oltre è stato catapultato dai piccoli figli operanti dal passo dice no figli miei fateli moltiplicare questi schemi sì non esistono le traduzioni ufficiali ma ci vuole la fiducia fatene circolare è come la luce del sole che non si può fermare che non si può fermare allora hanno visto che i raggi del sole il sole all'inizio c'era come questa idea del controllo no immaginiamoci nel 1600 quando è stato istituito l'indice perché si pubblicavano forse 30 libri all'anno in Europa allora c'erano quelli del santa ufficio che con la santa pazienza si andavano a leggere questo libro no per carità ci sono concetti di botanica molto pericolosi nel senso che non so oppure non so le teorie copernicana Galileo Galileo ah no non è il sole ma la terra allora quando poi si iniziano a pubblicare con la stampa 300 400 500 e come si fa a controllare adesso ci vorrebbe l'indice delle telenovela l'indice dell'inter l'indice dei siti l'indice del whatsapp l'indice del text l'indice di facebook l'indice di twitter l'indice di quello che sia allora giustamente no Paolo VI nel 1960 65 quello che sia l'indice non ha più ragione di esistere perché ha fatto nel senso la chiesa ha messo i suoi paletti però non è possibile il controllo dell'informazione e c'è anche l'indice lui si è stata messa nell'indice nel 38 quello che sia l'indice ma nell'indice c'è stato messo pure San Luis Marie de Montfort c'è stato messo pure Sant'Alberto Maggio per dire per parlare di qualche dottore della chiesa eccetera quindi fa parte proprio della chiesa che le santità vanno quasi compresse vanno passate attraverso la trafila quasi delle persecuzioni perché questa è l'imitazione della vita di Gesù e poi la chiesa stessa si fa strumento di questo lei stessa resta umiliata però glorifica poi l'igroditica Santa Faustina San Luigi Maria de Montforte Sant'Alberto Magno poi Gloria delle Altari trionfo di lo stesso pure di Luisa e quindi la chiesa si fa in un certo senso protettrice attraverso quasi strumenti che sembrano privere però questi servono soltanto a farlo non dobbiamo giudicare la chiesa perché è lo stesso spirito santo che utilizza questi strumenti utilizza gli archivi del Vaticano e quello di là perché poi la verità più gloriosa all'interno della chiesa viene da fuori immaginiamo se gli archivi se gli scritti Luisa non fossero stati confiscati e messi negli archivi del Vaticano il 36 sono se gli entufano e stanno ancora fuori se non fossero stati messi negli archivi immaginiamo chi già ci sono diritti perché io ho il diritto di stampa perché io sono la nipote della nipote di Luisa quindi il volume 8 è mio perché una volta io l'ho toccato mia pronipote l'ha tenuto in mano perché io sono amica del nipote di Federico Avres e quindi è il mio il 12 è il mio sarebbe stato un macello allora povero Gesù ha dovuto permettere che qualcuno diciamo non che si giustifica la calumnia però ha permesso che qualcuno ha queste voci così perché fossero stati confiscati fossero stati al sicuro negli archivi del Vaticano e chissà quando i figli del divino si decideranno a metterci anche il 35 il 36 perché sono un patrimonio della Chiesa non sono delle religie comunque potrei dire queste mie queste non sono e allora benvengano queste prudenze queste apparenti lentezze queste apparenti oppressioni della Chiesa perché il Signore se ne serve perché siano delle propulsioni che poi al momento qualcuno servono per propagare il Regno con ancora più delle citate in realtà non ci siamo più da è bello è stato bello vedere appunto nelle pittine come la Chiesa di più nella diocesi di Corato che è sempre quella che sta qui a dire attenzione potete non potete sono quelli che saltavano come dei gritti contenti felici e dire sì non solo potete ma che avete bellissimo parte fatta che però il 35 e il 36 non è che non si hanno saranno in mano proprio il testo di carta scritto sarà in mano di una comunità però assolutamente ce l'abbiamo tutti ormai ce l'abbiamo tutti quindi sì voglio dire io se fossi cioè se ce l'avessi in mano dico non è che il pezzo di carta serve a qualcosa però dico mettiamoli tutti insieme proprio come segno di unità perché dire no mettiamoli tutti insieme voglio dire se se uno ha sette denti di Luisa e io ho l'ottavo dico prendevore questi mettiamoli tutti insieme che me lo tengo a spalto perché mi piace grazie a tutte queste condanne ci sono state a te a me 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 adesso ho l'istruito santo ho operato lui a modo suo bene e allora benvengano benvenga la tua condanna caro grazie ecco ecco proprio in questo spirito di dire siamo tutti nella stessa famiglia e ognuno ha il suo copito ognuno deve fare il birichino a destra e a sinistra però poi il papà e la mamma dicono venite qui tutti siete stati bravi ognuno deve fare il suo copito e niente questo questo è Gesù che ha lui è lui è la chiesa e lui spinge spinge da sotto e protegge da sopra e quindi tesse le fila di questo regno in modo così diciamo imperscutato